Era una domenica pomeriggio, nella casa parrocchiale di Santo Croce, nel centro storico di una tessa nobile e al tempo stesso contedina, Don Epimenio Giannico convocava altri tre sacerdoti e undici notabili. Quella domenica di 110 anni ursono, un sogno diventava realtà. Su un documento ufficiale, le firme di Don Epimenio e di altre 14 persone, il 3 maggio del 1903 vedeva alla luce la Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti San Francesco d'Assisi. Quel giorno, il sogno di un credito più giusto per tanti contadini della zona, spesso stretti nella micidiale morsa dell'usura, diventava un'opportunità concreta per tanti. Così, sbarcava anche in terra d'Abruzzo quel modo nuovo di fare banca, che Don Epimenio aveva conosciuto nel nord Italia, sulle ali di una contagiosa carità, ispirata da Leone XIII con la sua enciclica Regno Manovano. In un pomeriggio primaverile di 110 anni fa, prendeva forma una nuova speranza per un intero territorio. Tutto è cambiato. Quella che era la piccola e illuminata Cassa Rurale di Otessa, oggi, a 110 anni di distanza, è la banca di credito cooperativo Sangro Teatina. Un istante che si da. Un istituto forte e dinamico presente in Abruzzo e Molise con ben 16 filiali sparse su tutto il territorio 4 aree verde e blu, 76 dipendenti, circa 30.000 clienti una raccolta di 317 milioni di euro, impieghi per 217 milioni e un patrimonio che supera i 28 milioni di euro Ma, senza dubbio, è un altro il patrimonio che rende la BCC differente i 4.333 soci, vera forza di un gruppo che ha fatto della mutualità e della cooperazione la sua ragione Tutto è cambiato, ma l'impronta originaria è sempre quella la passione per la persona nella sua interezza l'attenzione ai suoi bisogni concreti il sostegno a chi è protagonista di un territorio la visione profondamente umana del credito che mosse Don Epimeno Gianluco, 110 anni fa a dar vita ad un'esperienza che ben presto diventò un motore di speranza La miglior difesa non è l'attacco, ma l'attaccamento al territorio Da sempre questa è l'identità della BCC Sangro Teotina Non solo conoscenza, ma anche condivisione di aspettative ed esigenze di chi vive, lavora, produce e crea valore Una vicinanza reale, in una banca dove protagonista è il cliente e il socio La miglior difesa è il cliente e il socio Presidente Buongiorno, buongiorno a tutti Signori soci, illustri ospiti Rivolgo a tutti voi e alle autorità che ci onorano della loro presenza Il più cordiale benvenuto e il ringraziamento per la partecipazione a questo convegno Che celebra in questo bellissimo teatro, consentitemi 110 anni dalla fondazione della nostra banca Saluto e ringrazio particolarmente le autorità civili Militari e religiose Che hanno accettato il nostro invito e hanno voluto Onorarci della loro presenza Importante per far sentire anche in questa occasione La presenza dello Stato e delle istituzioni In particolare ringrazio il Vice Prefetto di Chieti Dottor Giovanni Giove Vice Presidente della Regione Abruzzo Alfredo Castiglione Presidente della Provincia di Chieti Dottor Enrico Di Giuseppe Antonio Il Sindaco di Atessa Architetto Nicola Cicchitti Il ringraziamento speciale va ai relatori Che hanno accettato di contribuire all'approfondimento delle tematiche Oggetto del convegno Grazie al Professor Marcello De Cecco Economista Professore alla LUIS di Roma Di Economia e Finanza Per il contributo che vorrà dare al convegno Sulla crisi dell'economia mondiale E di quella italiana in particolare Professore De Cecco Fu ospite gradito Anche in occasione Della celebrazione del nostro centenario Nel 2003 In cui relazionò sul rapporto Fra globalizzazione e localismo Quel convegno prezioso Fu il ruolo di moderatore Svolto dal nostro concittadino Giulio Borrelli Illustre giornalista E presidente della Fondazione Museate Che saluto e ringrazio per il suo ruolo Anche in questo convegno Grazie al Professor Pietro Cafaro Ordinario di Storia Economica All'Università Cattolica di Milano Che ci offrirà una ricostruzione Della storia delle casse rurali Prima e poi BCC Delineando l'importanza Che il movimento del credito cooperativo Ha avuto Ed ha nel sistema finanziario Nazionale e internazionale Grazie poi al magnifico rettore Delle Università di Teramo Professor Luciano D'Amico Sempre vicino alla nostra banca Un particolare ringraziamento Al direttore della filiale Banca d'Italia dell'Aquila Luigi Bettoni Che ci onora della sua presenza E che segue con attenzione L'attività della nostra federazione E delle nostre BCC Un sigero benvenuto e un saluto A Nicola Di Santo Presidente del Credito Trevigiano Con cui abbiamo sottoscritto Un gemellaggio di amicizia E collaborazione Nel settembre 2012 Iniziativa del gemellaggio Sulla naturale evoluzione Della proficua collaborazione operativa E dell'autorevole tutoraggio Del credito trevigiano Che nel 2011 Ha visto la nascita Dell'associazione di mutuo soccorso Epimus Strumento che mira Ad integrare il Servizio Sanitario Nazionale Operando senza fini di lucro Il Presidente Nicola Di Santo Ci ha anche onorato Con la sua richiesta di ammissione A socio della nostra banca Naturalmente Subito Da noi accolta con immenso piacere Inoltre Saluto Un saluto e un ringraziamento Al Presidente della nostra Federazione Abruzzo e Molise Alfredo Savini Federazione che rappresenta Un supporto strategico, operativo E politico di primaria importanza Della quale oggi Più che mai Non è possibile fare a meno All'ingegnere Ermanno Alfonsi Direttore generale Della nostra Federazione Sempre vicino Alla nostra banca Un saluto cordiale Ai Presidenti Ai Direttori Delle nostre Conselle Della Federazione Abruzzo e Molise Presenti Un ringraziamento Ai funzionari Di Crea Banca Un ringraziamento A Don Loreto Grossi Barroco della città Di Atessa Al Capitano Massimo Di Lena Comandante Compagnie Carabinieri Di Atessa Alla Dottoressa Katia Basilico Dirigente Commissariato Polizia di Stato Al Tenente Yolanda Ruggiero Comandante Guardia di Finanza Tenente Di Lanciano Al luogotenente Paolino Di Cello Comandante La stazione Carabinieri Di Atessa E a tutti i sindaci Del territorio Presenti Anche al sindaco Di Agnone Ci ha fatto piacere Ringrazio poi Il Presidente Della nostra Libera Associazione Di mutuo soccorso Epimus Dottor Franco Bonanno Ringrazio anche Per la loro Gradita partecipazione Dottor Nunziato Calion Già commissario Della ex ICC del Molise L'avvocato Pierfilippo Verzaro Del servizio Legale Di Federcasse Ringrazio anche Il direttore Compartigianato Abruzzo Daniele Giangiulli A nome del Consiglio Di Amministrazione Voglio esprimere Qualche riflessione Per condividere Con voi Il significato Di questi nostri 110 anni Di storia E le prospettive Che ne scaturiscono La BCC Sangro Teatina Che ho l'onore Di rappresentare E la più antica Banca di Credito Cooperativo Di Abruzzo E Molise Compie Come abbiamo visto 110 anni Un ulteriore motivo Di soddisfazione È il fatto Che questa nostra Importante ricorrenza Coincida Con i 130 anni Dalla nascita Del Movimento Del Credito Cooperativo Italiano Del quale Siamo parte Integrante Come una Delle banche Più storiche 110 anni Di vita Della nostra Banca Rappresentano Un traguardo Importante Che deve consolidare Il rapporto Con i nostri soci I clienti E l'intera collettività E proiettare La banca Nel futuro Con le sue 16 filiali Operante Su tre province Chiedi Serni A Campobasso Oggi Rappresenta Una banca Che nell'ultimo Periglio È stata orgogliosa Di consolidare La sua presenza Sul territorio Di certificare La sua crescita Economica Ad esclusivo Vantaggio Dei soci E delle comunità Locali Di riferimento La storia Del nostro Istituto Di credito E patrimonio Dell'intera Nostra comunità Nata Secondo La migliore tradizione All'ombra Del campanile Della chiesa Di Santa Croce Con il nome Di cassa Rurale Cattolica Di deposti E prestiti Nel lontano 1903 Centodieci anni Di attività Non hanno intaccato Però le caratteristiche Peculiari Della vecchia Cassa rurale Essere Interlocutore Attento Capace Di ascoltare E risolvere Per i collaboratori Particolarmente preparati E disponibili Le problematiche Dei soci E dei clienti In un'ottica di servizio E informazione Personalizzata Nostra è la volontà Di festeggiare Questo anniversario Come occasione Di riflessione Sul passato Di recupero Dei valori E del percorso Fatto Come occasione Di gioia Di convivialità Ma anche e soprattutto Occasione di approfondimento Delle nostre radici Dei valori fondamentali Su cui la banca 110 anni fa Venne fondata Un'occasione Irrinunciabile Per conoscerla meglio E quindi di riflessione Spunto per il futuro Per capire il ruolo Che dovrà avere Da ora In poi E rafforzare Ulteriormente Il nostro modo Di fare banca Questi 110 anni Hanno avuto per noi Un denominatore comune Ossia la coerenza Con la nostra mission Essere vicino al territorio Sostenendo le famiglie Le imprese Supportandone Le attività sportive E culturali Più meritevoli In questi ultimi anni Caratterizzati Dalla crisi economica E finanziaria Abbiamo fatto il possibile Per mantenere costante Questo sostegno E ci siamo Distinti come banca Solida Ossia lontana Da quelle forme Di finanza speculativa Che sono state proprio Il fattore scatenante Della crisi Sono le basi Sulle quali Vogliamo continuare A lavorare Per gli anni a venire Oggi Questo autorevole convegno È dedicato Al tema Del credito cooperativo Come modello Vincente Per lo sviluppo Economico locale Con i relatori Di eccellenza In materia di economia Rappresentanti istituzionali Esponenti del mondo Delle BCC Insieme Per parlare Della situazione economica Dei valori Della cooperazione E del contributo Che la banca Di credito cooperativo Può dare Allo sviluppo Dell'economia Del territorio Questo convegno Rappresenta Il momento Culminante Delle celebrazioni Per l'importante Anniversario Della nostra banca Un convegno Che cade In un momento In cui A causa Dell'attuale crisi La domanda Sul futuro È assai acuta E avvertita Da tutti Non entro Nel merito Delle dinamiche Del convegno Ma mi preme Fare qualche breve Considerazione La crisi finanziaria Ha messo in evidenza L'inadeguatezza Dell'attuale modello Di sviluppo Economico sociale Il periodo storico Che stiamo vivendo Non è certo Dei più semplici L'attuale crisi economica Sta mettendo A dura prova Le famiglie E le piccole imprese Del territorio Segnate Dall'acquirsi Dei negativi effetti Della crisi finanziaria Iniziata Alla metà Del 2008 Le cui conseguenze Non sono ancora esaurite E le stiamo Sopportando Ancora oggi Sulla nostra pelle Il nostro paese Ha finito Per essere pienamente Interessato Dalla crisi economico Mondiale Con l'aggravante Dei suoi difetti Strutturali Eccessivo debito Pubblico Carenze Di infrastrutture Scarsa propensione Alla ricerca Ed eccessiva Presenza Di evasione Fiscale L'impresa cooperativa Può costituire Una valida risposta Per la costruzione Di un nuovo Modello di vita Dove interagiscono Valori di imprenditorialità Di mutualità E sussidiarietà Per la costruzione Di una Società Con maggiore Coesione sociale In cui L'impresa Si è in grado Di coniugare La logica Del mercato Con il perseguimento Del bene comune Le banche Di credito cooperativo Continuano a svolgere Un ruolo anticiclo Del mercato Esercitando con coerenza Esercitando con coerenza Il loro mestiere Di banca Del territorio E di relazione E di banca Mutualistica C'è da dire Che a livello locale Nel nostro BCC Si sono caricate Di grosse responsabilità Affrontando Novi impegni In termini Di controllo Dei rischi Di efficienza Operativa Una sfida Che ci porta Ancora di più A fare rete Per garantire Al territorio Un semplice Un sempre più efficiente Sistema bancario Locale E un sostegno Alle famiglie Alle piccole E medie imprese Il futuro Per tanto È tutto Da scrivere Gli scenari Economici E sociali Stanno cambiando Rapidamente In questo contesto Nel quale Non sappiamo Verso Quale modello Di sviluppo Stiamo procedendo Le banche Di credito Operativo Rimangono Un modello Originale Vivo E vitale Per il sostegno Sociale E il rilancio Dello sviluppo Economico Chiudo qui Il mio discorso Esprimendo di nuovo La mia riconoscenza A tutte le persone Ed autorità Che hanno voluto Essere presenti Con noi A questo importante Evento Per la nostra banca Grazie per l'attenzione Grazie Grazie Presidente Come avete capito Da questa introduzione Sia dal video Sia dalle cose Che ha detto adesso Il presidente Il professor Pier Giorgio Di Giacomo Stamattina Parliamo di finanza Di banche Ne parliamo In un periodo In cui le banche Che la finanza Diciamocelo francamente Non godono Di buona fama Perché da molti Sono ritenuti All'origine Dei nostri guai Vedo che Dello reto assente Quindi vuol dire Che È davvero Così Ma ne parliamo Come avete visto Parliamo come avete visto Di una banca Particolare Di una banca Ultracentenaria Che compie 1610 anni E che affonda Le sue radici Nell'opera Di un grande Atessano Don Epimenio Giannico Che era Un sacerdote Che conosceva Molto bene La sua terra E la sua gente E a quell'epoca All'inizio del novecento Poi il professor Caffaro ci spiegherà Anche perché Queste banche Nascono allora Soprattutto in quel periodo Parla adesso Di casse rurali La denominazione Originaria Della banca Conosceva molto bene La sua realtà E aveva visto E sapeva Che molti contadini Quando dovevano Comprare le sementi Quando avevano Necessità Per sopravvivere Di avere soldi Di avere contanti In realtà Ricorrevano All'usura Venivano strangolati Venivano presi Per il collo Da qui nasce L'idea originaria Di fare appunto La cassa mutua Rurale Che fondamentalmente All'inizio Serviva Ad aiutare I contadini Che avevano bisogno Di prestiti Che avevano bisogno Di soldi Di contanti Per la loro attività agricola Per mantenersi Per poter campare Da piccola cassa rurale Come avete visto Anche dal video Quella realtà È diventata La più importante Banca di credito Cooperativo Dell'Abruzzo e del Molise Insomma Stiamo parlando Di qualcosa Di molto importante Per il nostro territorio Per la nostra realtà È una banca Che ha accompagnato Lo sviluppo Del nostro territorio Appunto Dalle origini Diciamo agricole Nel mondo Contadino Alla trasformazione Industriale Degli anni 70 Che ha vissuto Il nostro territorio Con le piccole E medie aziende Fino appunto Ai giorni nostri In cui anche È inserita All'interno Di un ciclone Di una crisi mondiale Di una crisi epocale In cui queste banche Comunque Per quanto vogliono essere Un modello Di riferimento Ne risentono La vivono Ne subiscono Le conseguenze Quindi della banca Della sua Attività Parleremo E per questa Anche la ragione Per cui diciamo Abbiamo invitato Questi ospiti Ecco perché Ci sta qui Marcello De Cecco Economista Professore All'Università La Sapienza di Roma Lo storico Che vi dicevo prima Pietro Caffaro Che è storico Dell'economia All'Università Cattolica Del Sacro Cuore Di Roma L'altro economista Luciano D'Amico Eccolo qui Che è il rettore Dell'Università Di Teramo E Alessandro Azzi Che è il presidente nazionale Della federazione Delle banche Di credito Cooperativo Sono tutti qui con me Che oltre naturalmente A parlare bene Delle banche Di credito cooperativo Questo lo diamo Per scontato Ci spiegherà poi Alcune cose In particolare Che vogliamo sapere Della vita Dell'attività Del futuro E come si inseriscono Anche nella crisi attuale Queste banche Che cosa possono fare Per quello che riguarda Diciamo le cose Di loro competenza Quindi sarà anche questa L'occasione Grazie alla partecipazione Di questi esperti Qualificati Di questi ospiti Per allargare lo sguardo Sui problemi Dei nostri Il futuro Della nostra Della nostra Economia La banca di credito Cooperativo Sangro Teatina La più antica D'Abruzzo Fa esattamente Quello che fanno Tutte le banche Maneggia I soldi La differenza Però qual è La particolarità Qual è Che fa banca Sul territorio Per scelta E per statuto Non gioca Alla roulette Delle scommesse D'azzardo Che sono quelli Che hanno mandato Con le gambe all'aria Gran parte Del sistema finanziario Internazionale Non usa I soldi Dei clienti Per speculare Ma cerca di usare Questi soldi Per aiutare Le imprese E le famiglie E anche per dare I contributi Alle attività culturali Alle attività Di sostegno Del territorio Quindi è una cosa Molto importante Per la nostra Città Per il nostro territorio Per la nostra regione Anche per il Molise Perché come sapete 16 filiali Sono dislocate Tra Abruzzo E Molise Si occupa E' una di quelle cose Che spesso viene invocate Dobbiamo tornare Vero professore All'economia reale Questa è una delle realtà Non Macroscopiche Ma insomma Che Importanti Comunque Che si occupano Di economia Reale Questo appunto E' un fatto Importante In un momento In cui manca il lavoro La produzione Ristagna Tante imprese Sono alla canna Del gas E tante famiglie Scivolano Verso la povertà Oggi Quasi tutti Dicono Che l'economia Di carta La finanza Ha preso il sopravvento Sull'economia reale La fa dal padrone Ed è in questo squilibrio Anche Che risiede La crisi Una crisi Che a molti Appare Non solamente Ciclica Una di quelle tante cose Che si ripetono Periodicamente Nella nostra vita Nella nostra storia Ma qualcosa Di sistemico Cioè che attiene Al funzionamento Del sistema Al meccanismo stesso Di funzionamento Dell'economia Io sto soltroducendo Temi che poi saranno Sviluppati Nella seconda parte Di questa mattinata E allora Sapere che ruolo Hanno in questa realtà Le banche È molto importante L'uso Dei soldi Poi in fondo Rinvia al modello Di società Che noi vogliamo Avere Rinvia alle decisioni Della politica In che mondo Viviamo E in che mondo Vogliamo vivere Naturalmente Sono domande Molto impegnative Cercheremo di dare Qualche risposta Ad alcune di queste Domande Proveremo Con i nostri ospiti Come vi ho detto Partiamo però adesso Dalla realtà Delle banche Mutualistiche Per poi appunto Allargare Lo sguardo Ogni oratore Che andrà sul palco A cinque minuti Questo è importante Perché sì Come sono previsti Molti interventi È bene rispettare L'ordine dei lavori Per tutti Cinque minuti Lì voi non lo vedete Ma c'è un contatore Elettronico Che fa il countdown Che scandisce Quando i cinque minuti Stanno per finire Mi auguro Di non dover fare Il computer di riserva Con sveglia Incorporata Per richiamare Ognuno Al rispetto Al rispetto Dei tempi Perché appunto Vogliamo sentire Più voci Dare a tutti In modo di parlare Alla fine Ci sarà la premiazione Di Diciannove Dipendenti Che hanno superato I venticinque anni Gli saranno Consegnate Delle medaglie Delle targhe Ricordo E siccome si prevede Che finiremo All'ora di pranzo È previsto Anche il buffet Che la banca Ha organizzato All'altezza Della sua tradizione Quindi cerchiamo Di concentrarci Di procedere Diciamo Con ordine Nel rispetto Tutti Dei tempi Dei tempi E dei temi Che abbiamo Dato Per primo Ha La parola Alfredo Savini Che lo invita A venire qui Presidente Della federazione Delle banche Di credito Cooperativo Abruzzo E molisse Quindi tocca A lei Dare anche Il buon esempio Come primatore Prego Buongiorno a tutti voi A nome Della federazione Abruzzo E molisse Delle banche Di credito Cooperativo Che ho l'onore Di rappresentare Mi unisco Ai saluti Del presidente Della BCC Sangro Teatina Di Giacomo E mia volta Nel ringraziarlo Per la squisita Ospitalità Che ci ha riservato Gli rivolgo Le congratulazioni Più sincere Per i 110 anni Di attività Della sua banca Con l'augurio Di conseguire Sempre Nuovi E prestigiosi Traguardi Ho sempre Creduto Profondamente Che il credito Cooperativo Rappresenti Un modello Vincente Per lo sviluppo Dell'economia Locale Ciò è dimostrato Dal ruolo Che le 10 BCC Attive in Abruzzo E Molise Si sono ritagliate Coi loro 78 sportelli Quali punti Di riferimento All'interno Del territorio Le nostre aziende Di credito Sono caratterizzate Da una formula Imprenditoriale Specifica Basate su Prestuposti Fortemente Correlati Quello Della cooperazione Della mutualità Del localismo La banca Di credito Cooperativo È un'impresa A proprietà Diffusa Espressioni Di capitalismo Popolare E comunitario Con orientamento Alla sostenibilità Dal momento Che esse Perseguono La logica Del vantaggio E non La massimazione La massimizzazione Del dividendo Sulla base Di un legame Totale E permanente Con il proprio Territorio Di riferimento Ogni singola BCC Dell'Abruzzo Del Molise È una banca In grado Di garantire La solidità E l'efficienza Dell'impresa Controllando E gestendo I rischi Creando Un'organizzazione Idonea Assicurando Un'offerta Competitiva Essa è Una realtà Dinamica Che esercita La funzione Di banca Di sviluppo Per il territorio E risponde Alle necessità Economiche E sociali Delle comunità Locali Con particolare Attenzione Verso Le esigenze Delle persone E dei giovani Della crescita Sostenibile Delle imprese Della cura Della qualità Dell'ambiente E del patrimonio Storico Artistico Le BCC Della Bruzza Del Molise Sono oramai Riconosciute Come portatrici Di un'identità Comune Volte a sostenere Sia la reale Partecipazione Dei soci Alla vita Aziendale Che lo sviluppo Concreto Dei territori Di riferimento La BCC Sangroteatina Nei suoi 110 anni Di storia Ha sempre avuto Nel proprio DNA Questi valori Che ispirarono Nel lontano 1903 I pionieristici Soci fondatori A partire Dal primo presidente Don Epimenio Giannico Uomo di grande cultura Semplice E generoso Capace Di farsi Interprete Delle esigenze Delle categorie Più deboli Della popolazione Atessana Quella lungimiranza E lo spirito Di servizio Nei confronti Delle proprie Comunità locali Sono stati Trasmessi Immutati Sino ai nostri Giorni Un plauso Va al consiglio Di amministrazione Di questa banca Al suo presidente Al direttore E a tutto il personale Dipendente Per i brillanti Risultati Sin qui raggiunti E sono convinto Che consegnerete Le future generazioni Un credito Cooperativo Più forte E più solidale A nome Dell'intero Credito Cooperativo Abruzzese Molisano Rinnovole auguri A tutti i soci Agli amministratori Ai dipendenti Che si possa festeggiare Ancora tanti Tanti momenti Come quello odierno Che segnano Tappe importanti Della storia Della BCC Sangro e Teatina Di Atessa Grazie Ringraziamo Savini Per essere stato puntuale Chiaro Sintetico Conciso Compendioso Ed efficace Adesso Luigi Bettoni Che è il direttore Della filiale dell'Aquila Della Banca d'Italia Prego Dunque Io sono veramente contento Di partecipare A questa felice ricorrenza Della Banca di Credito Cooperativo Di Sangro e Teatina Sono ben 110 anni D'attività Al servizio del territorio In cui opera E quindi È un ottimo traguardo Nel 2010 Ricordo C'è stato un passo decisivo Per la Banca Ultimamente Che ha incorporato La BCC Della Molise Di San Martino In Pensilis E ha esteso quindi La competenza territoriale Anche alla provincia Di Campobasso Ora 16 sportelli Nelle due regioni E quindi una banca Pienamente Al servizio Del suo territorio Viva E vitale A questo punto Io amplio un momento L'orizzonte E magari offro Qualche spunto Per come Ha accennato Il conduttore Le capacità Delle banche Di credito cooperativo Di fornire credito Si basano Ovviamente L'abbiamo già detto A varie volte Sulla conoscenza Del territorio Dei sistemi economici Locali Sulla valutazione Diretta Della qualità Delle iniziative Dei piccoli Imprenditori Su una struttura Organizzativa In grado Di rispondere In tempi rapidi E in forme Non burocratiche All'esigenza Della comunità La fiducia Accordata Dai risparmiatori Alle banche E di questo genere Ha determinato Flussi di raccolta Ampiamente sufficienti E quindi Patrimonio Stabilità Delle fonti Di provvista E risorse liquide Hanno consentito Alle banche Di credito Di cooperativo Di continuare A erogare Credito Anche durante La recessione La prima fase Della recessione Sostituendosi Così ad altri Intermediari Maggiormente colpiti Dalle difficoltà Della crisi E il sostegno Fornito All'economia Locale In questo caso Ha attutito L'impatto Della crisi Sul benessere Delle famiglie E ha consentito Numerose piccole imprese Di proseguire Le attività Però Il circolo virtuoso Che per anni Ha alimentato La crescita Del credito Cooperativo È stato frenato Dalla stessa Crisi in atto Che continua Per durare E questa crisi Ha lasciato Delle pesanti Tracce Nei bilanci Delle banche Della categoria Come in quelle Delle altre E riflettendo Quindi Un notevole Peggioramento Della qualità Degli attivi La crescita Annua Delle sofferenze A livello Di sistema E quindi Anche del credito Cooperativo È stata Molto elevata E purtroppo Quindi Bisogna Che le banche Valutino Attentamente La sostenibilità Dei rapporti I vincoli E le aspettative Che sorgono All'interno Della comunità Sono ovviamente Importanti Ma non devono Allontanare Le politiche Del credito Dalla sana E prudente Gestione Di ogni Organismo Bancario Perché La tutela Dei depositanti E dei capitali Dei soci Deve essere Il primo pensiero Degli amministratori Di una banca E il credito Cooperativo Compresa la banca Di Atessa Hanno rivisto Tempestivamente Strategie Espansive Riguardo Reti di vendita E volumi Di impiego Hanno Controllato I rischi In modo Maggiormente Efficace Hanno cercato Di contenere I costi Anche in momenti Difficili Non però Sono riusciti A non far mancare Il proprio sostegno Alle imprese Che presentavano Concrete Prospettive Di risanamento E di rilancio Perché Come voglio ricordare Ha detto Recentemente Il 31 di maggio Il dottor Visco Le prospettive Della domanda interna Dipendono Anche in ampia misura Dalle condizioni Di accesso al credito Quindi E questa è una funzione Insostituibile Delle banche E questo È anche il primo Il più importante Risultato Della presenza Del consolidamento Di banche autonome Sul territorio Che siano Strutturalmente In equilibrio E ha un'esigenza Strategica Per l'Italia Che è il paese Delle piccole imprese Delle famiglie produttrici Le dimensioni Delle BCC Sono quindi adatte Alle dimensioni Di gran parte Del territorio E del tessuto Produttivo E alla cui crescita Contribuiscono Attivamente L'altro punto Che caratterizza Le BCC Sono inoltre Gli aspetti Mutualistici E di solidarietà E la tessa Compendiato In un bilancio Sociale I suoi numerosi Interventi A favore Dei cittadini E proprio In questo campo Si è distinta Con la costituzione Della prima mutua Assistenza Delle banche Della categoria In Abruzzo Nel 2011 Che è stata Intitolata Proprio Il fondatore Pimenio Giannico E iniziative Come queste Contradistinguono Certamente Il credito Cooperativo E garantiscono Un concreto Ritorno sociale Al territorio Con i risultati Dell'attività Della banca Perché in effetti Voglio ricordarlo Nel credito cooperativo Gli utili di gestione Sono destinati In primo luogo Alla rafforzamento Della struttura Della banca stessa Quindi a patrimonio Riserve A copertura Di rischi su crediti Che purtroppo Sono crescenti E in secondo luogo Sono destinati A scopi di mutualità E solidarietà E solo da ultimo E dentro determinati limiti E soci come dividendi E questa è la miglior garanzia Che le banche Di credito cooperativo Rimangano legate Agli ideali Per cui sono state create Le banche Di questo genere Devono sapere Quindi coniugare Sviluppo Solidarietà Ed efficienza Nelle BCC Esistono però Valori Capitale umano E capacità professionali E progetti Imprenditoriali Che sono bene In grado Di misurarsi Anche con la Difficile crisi Che stiamo vivendo A questo punto Io formulo Quindi I migliori auguri Al presidente Al consiglio Al direttore A tutti i dipendenti Della banca Di credito cooperativo Di Atessa Affinché possano Continuare ad operare Come sinora Hanno saputo fare Al servizio Della banca E al servizio Della comunità In cui sono inseriti Grazie 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 a Bettoni E adesso c'è Nicola Di Santo Che è il presidente Del credito Trevigiano La banca di credito Cooperativo Qui Diciamo È ormai una banca Che diciamo Di fatto Si è gemellata Si è unita Insomma Hanno unito In qualche modo Le proprie esperienze Le proprie Conoscenze È propria dimostrazione Anche della capacità Di questa banca Di guardare Oltre i confini Territoriali Prego Bene Buongiorno Grazie presidente Di Giacomo Per questo invito Per questo creditissimo invito In una giornata Eccezionale Importante Come è Quella di un anniversario Un centodieciesimo Anno di anniversario Cioè di una fondazione La banca Sicuramente È una data importante Soprattutto in questo Magnifica bomboniera Di teatro Porto il saluto Quindi di Cato Trevigiano La banca di Cato Cooperativo Della provincia Di Treviso A le tantissime Istituzioni Qui rappresentate A illustri Esponenti Del mondo Della cultura E dell'economia Un particolare saluto Va al mio presidente Nazionale Alessandro Azzi Al presidente Della federazione Abruzzo All'amico presidente Della BCC Di Pato La Pelligna Al direttore Della filiale Banca d'Italia Dell'Aquila Al vice prefetto Al governatore Ragione Al presidente Della provincia Al sindaco Autorità civili Militarie Religiose Oggi presenti Certo Non è facile Trovare E riuscire A far convenire Tante personalità In occasione Come questa Oggi di universario Segno evidente Dell'importanza Che la BCC È venuta Ad assumere Nel tempo Merito sicuramente Del presidente Di Giacomo Del suo CDA Del suo direttore Di Marco Di tutto il personale Che nel tempo Sono riusciti Ad acquisire Credibilità E prestigio Non solo Nell'ambito Al movimento Ma anche Nella parte Più importante Delle istituzioni Di ordine civile Economica E sociale E questo fa bene Al territorio Fa bene Al movimento Fa bene Al credito cooperativo E sono orgoglioso Estremamente orgoglioso Di essere qui con voi Oggi Per vari motivi E varie ragioni Sicuramente il primo Il mio legame personale E le mie radici Abruzzesi I miei trascorsi D'infanzia In quel di imbomba Ed è proprio a bomba Che sono rimasto Legato ed affezionato Legami solidi Di amicizia E di stima Con il presidente Di Giacomo E ancor più Più rapporti Di collaborazione Con la BCC Sangro-Treatina Suggellati Da un vero e proprio Patto di gemellaggio Filmato allo scorso 14 settembre Una giornata memorabile Che ha trovato prima Incontri reciproci E scambi Tra i vertici E il personale Delle due banche È stato definito Un gemellaggio Di amicizia E collaborazione Così perché L'intesa tra persone Che non può solo Che portare Una profilio Collaborazione operativa È già portato Qualche frutto Come la nascita Della vostra Società di mutuo soccorso Di scambi Di progetti Ed è ancora in progetto Per promuovere I rispettivi territori Tra queste due banche Di credito cooperativo È stabilita Una naturale sintonia Perché sentiamo Allo stesso modo Il ruolo Di una cooperazione Di credito Il suo essere Banca differente La sua presenza È forte Nel territorio La sua fedelità Alla sua storia Una storia Che ci accomuna Per l'anzianità Più che centenaria Bcc Caedo Trevigiano Fondata nel 1901 La vostra Ma direi la nostra Perché sono anche socio Nel 903 Quando noi Le casse rurali cattoliche Nate in dioce di Treviso Stavamo vivendo La prima esaltante stagione Ed erano più di 300 E quando da voi Cominciava A tecchire il seme Voi tra i pionieri Come Cassa Rurale Cattolica Di Depositi e Presti San Francesco Un seme portato Allo stesso sacerdote Don Luigi Cerrutti Giovane cappellano Della dioce di Treviso Apostolo e promotore Della cooperazione cattolica Ben conosciuto Negli ambienti Eclesastici Abruzzesi Era come Si legge Nel vostro libro Del centenario Come se Nucleo del Veneto Bianco Si fosse trapiantato Nell'Abruzzo Del primo novecento Stessa matrice dunque Stessa Sotto l'ombra Dello stesso campanile O di campanili diversi Ma con la stessa Filosofia Con la stessa credo I paroci del tempo E qui primi agricoltori Artigiani Piccoli e commercianti Che per i primi Ebbero fiducia Rischiando di persona Nella Cassa Rurale E poi una storia Di crisi economica Sociale Non lineare Non progressiva Come qualcuno Oggi pretenderebbe Non scontata Ma intervallata Da fasi di ralentamento Di ritardi Di crisi In corrispondenza Soprattutto di periodi Delle grandi difficoltà Internazionali Com'è inevitabile Nelle vicende umane E appunto Guardando la nostra Comune storia Che dobbiamo affrontare Questo nostro difficile presente Le prospettive Di un futuro Ancora molto incerto E il tema Che ci si propone Oggi al convegno Come il credito cooperativo È diventato Negli anni Un modello vincente Perché di crisi Ancora più gravi Di questa Le nostre Cassa Rurale Ne hanno attraversate La loro storia E le hanno saputo Superarle Perché direi Da persone Che credevano La loro istituzione Che avevano saputo Conquistare la fiducia Dei soci Degli operatori locali E hanno fatto diventare La propria Cassa Rurale Un punto di riferimento In tutto il territorio Appunto Attaccamento al territorio E tutto questo Abbiamo ancora bisogno Oggi Soprattutto in tempi Di crisi Di presidenti Direttori Che credono Nei fondamenti E nelle peculiarità Della cooperazione Di credito Un personale Orgoglioso Di far parte Di questa grande famiglia Di soci Attaccati alla loro Funzione sociale E locale Di federazioni In grado di far rete E di offrire servizi All'avanguardia Innovativi Di organi di controllo Che sappiano capire E comprendere La specificità Della nostra funzione Non solo economica Ma anche sociale E legata All'economia Del territorio Con la coscienza Delle nostre radici E della nostra differenza Con l'umiltà Di chi è sempre pronto A ripartire Con la disponibilità Ad imparare Dalle esperienze altrui Supereremo sicuramente Questo momento difficile Ed è anche in questo senso Più profondo Del nostro gemellaggio Con la BCC Sangro Teatina Dei nostri incontri Dei nostri confronti Dei nostri collaborazioni Quindi lunga vita Alla BCC Sangro Teatina Grazie Grazie a Di Santo E a questo punto Avremmo dovuto avere Qui con noi Bruno Forte Che è l'arcivescovo Metropolitana Dell'Arcidiocesi Chietivasto Non è presente fisicamente Però adesso Lo ascolteremo Perché abbiamo Un video registrato Avendo parlato Appunto Delle caratteristiche Di questa banca Di solidarietà Sappiamo che la Chiesa Ha di continuo Un richiamo In via di continuo Un richiamo A tener conto Sempre dell'uomo Delle esigenze Delle persone Quindi di adattare L'economia Le prospettive Della finanza A quelle dell'uomo Chi meglio Di padre Bruno Ci può dire qualcosa Sentiamolo Avrei voluto essere presente Al vostro convegno Perché Sino a quando ho conosciuto La figura Di Don Epimenio Giannico E della fondazione Che ha dato luogo Poi vita Al banco di credito Cooperativo Della Val di Sangro Ho sentito Il profondo interesse Che come pastore Questo suscitava in me In realtà L'opera Che 110 anni fa Questo sacerdote Tessano Viato È un'opera Che si ispirava Alla dottrina sociale Della Chiesa Che aveva avuto Nella Re Romano Varum Il manifesto Da cui si sarebbe Poi ulteriormente Andata precisando E dunque Un'attenzione Ai più deboli Come esigenza Prioritaria Di ogni etica Ed economia Di carattere sociale Don Epimenio Interpretando Questo bisogno Vuole la fondazione Di questo banco Di credito cooperativo Che potesse sostenere Soprattutto i più deboli Immagino principalmente I contadini Di quell'agro Nelle loro fatiche Nei loro desideri Di poter investire Per migliorare Il loro lavoro E per cui Avevano bisogno Di prestiti Da poter ripagare Poi con un interesse Il più possibile basso Ecco dunque È che questa Economia sociale Di ispirazione Chiaramente Cristiana Legata alla Dottrina sociale Da Chiesa Trova Nel banco di credito Cooperativo In generale E nel vostro In particolare Una Mi sembra Significativa E bella E bella manifestazione Sono passati 110 anni Le urgenze di allora Continuano ad essere Le urgenze di oggi Soprattutto in questo tempo Di crisi Economica Mondiale Che come tutti sappiamo Nasce Certamente Da una Implosione Della finanza mondiale Ma di una implosione Che a sua volta Ha come causa Un principio Etico Disatteso E cioè Quello di dire La verità Sappiamo che tutto Nasce Dalla menzogna Con cui si è voluto Far passare Per l'economia Reale L'economia Virtuale Della finanza I giochi Della finanza In qualche modo Interpretati Come Valore economico Pari a quello Dell'economia Reale Di chi produce Tutto questo Ha scatenato Naturalmente Un'implosione Nel suo castello Di carta Oggi Noi siamo Coscienti Di tutto questo E allora La verità È un insegnamento Di cui La storia Della branca Di credito Cooperativo Può essere Una sorta Di verifica Efficace In economia Bisogna Lavorare Al servizio Della verità E della giustizia Della solidarietà E dello sviluppo Senza mai disgiungere Questi termini Quando anche uno solo Di essi viene meno C'è il rischio Che tutto diventi falso E prima o poi Possa implodere Questo Centodieci anni fa L'aveva capito Un nostro sacerdote Di Orrisano Don Epimenio Giannico Che ha voluto Con coraggio Quest'opera Che Oggi Tutti riconosciamo Essere significativa Sul territorio Io ringrazio L'invito rivoltemi Perlomeno A dirvi con la parola Il mio saluto Come sapete Sono a Roma Il 14 Il 13 Il 14 Per il consiglio Del sino Mediovesco Di cui faccio parte Avemo anche L'incontro Con Papa Francesco Pagherò per voi E vi mando Via video La mia benedizione Il mio affetto E la mia stima Ecco Allora Dopo questo intervento Via video Di Bruno Forte Torniamo agli interventi Qui in sala Adesso è la volta Di Giovanni Giove Che è il vice prefetto Di Chieti Prego Come avete visto Anche Monsignor Forte È stato nel rispetto Rigoroso Dei tempi Che gli erano stati Assegnati D'altra parte Tocca anche Alle gerarchie Ecclesiastici Oltre che Ai politici Dare l'esempio E dare il Buon esempio In tutti i sensi Mi sembra che le sue parole Siano state molto chiare E significative Adesso Giove Signor Presidente Autorità Signore e signori Buongiorno Rivolgo A voi A nome del signor Prefetto Che in questo momento E non da oggi soltanto È impegnato a Roma In consultazioni Di governo E su richiesta Del signor Presidente Della Repubblica Rivolto a tutti i prefetti D'Italia Di Incontrarli Per Discutere E anche mettere a punto La strategia Di intervento Sul territorio Per garantire La coesione Della manovra Che questo pomeriggio Il Consiglio dei Ministri Metterà a punto Per assicurare La ripresa Dello sviluppo Del nostro Paese Da noi Tutti Così lungamente E ansiosamente Attesa Ed eccomi qua In caricato Di Non sfigurare Rispetto Al Al mio mentore Permettetemi Di esprimere così Noi Dell'ufficio del governo L'ufficio del governo La rappresentanza Del governo Sul territorio Provinciale Abbiamo una missione Particolare Quella di garantire La coesione Con un terminale Diretto Tra Le autorità nazionali E La realtà territoriale Di ciascuno di voi Di ciascuno di noi E abbiamo Il privilegio Di condividere Con la regione E saluto L'assessore Rivedo Con piacere L'assessore Castiglione Con la provincia E saluto L'amico presidente Della provincia Enrico Di Giuseppe Antonio E con tutti i sindaci Che mi fa piacere Vedere qui A cominciare dal sindaco Di Attesa Che mi ospita Per altre Ragioni istituzionali Che adesso non dirò In un In un sistema Che Adesso si dice Attualmente Rete Ma in realtà C'è sempre stato Un canale diretto Che si interseca A più livelli Per soddisfare Le esigenze Anzi Cercare di prevenire Le necessità Questo è il senso Attuale Della nostra mission Questo è il senso Della profonda partecipazione Quindi con cui Noi Seguiamo le vicende Anche degli istituti Di credito Terminali Come siamo Di due istanze Solo apparentemente Contrapposte Ma in realtà Coincidenti Quella della realtà Nazionale E quelle Delle Comunità Territoriali Ho evitato Apposta di Usare il termine Locali Ma il senso È quello Ecco che Quindi Quando da noi Tante istanze Vengono rappresentate Personalmente O no In occasione Anche Se vogliamo Drammatica Della tentativa Della composizione Dei conflitti Che A volta Sorgono Tra Gli imprenditori Datori di lavoro E I loro dipendenti Prestatori di opera Ecco che Il nostro pensiero Va a voi Voi che Assicurate Come il vostro Claim Ho visto Che ammiro E per il quale Presidente Mi permetta Di rinnovarle I miei complimenti Personali Non attaccare Non siamo in guerra Non è vero Siamo in guerra In realtà Ma è una guerra Di tipo Molto particolare Quella che Accennava Molto Dottamente Monsignor Bruno Forte Al quale Idealmente Voglio ricollegarmi Per tutti Compreso Il direttore Della Banca d'Italia Il direttore Del credito Trevigiano Tutti Coloro che Io sto Modestamente Credetemi Cercando di Seguire Nelle loro Orme Molto più prestigiose Molto più illustri Della mia Piccolina Ma È giusto Sentirsi Profondamente Partecipi Del Del territorio Chiedo scusa Per aver Oltrepassato Il tempo Consentitemi Auguri A voi E Buon lavoro A tutti quanti noi Grazie Grazie al vice prefetto Adesso È il rappresentante Della regione Alfredo Castiglione Che è il vice presidente Della regione Abruzzo Che quindi Non ci farà mancare La riflessione Di com'è Il problema Del credito Del credito Che operativo In particolare È visto All'interno Della nostra regione Anche per la ripresa Economica E lo sviluppo Della nostra regione Prego Castiglione Grazie Un saluto doveroso Al presidente Al presidente nazionale A Amico Borrelli A Sindaco A tanti amici presenti Un momento di riflessione Importante O qualche Messaggio E qualche Cosa Di cosa La regione sta facendo Come vuole affrontare Come sta affrontando Questa crisi Che certamente È una crisi strutturale Non è di passaggio È una crisi che ci consegnerà E ci sta consegnando Una realtà diversa E di fronte a questa realtà diversa Che noi dobbiamo Avere a che fare E di fronte a una realtà diversa Occorrono inevitabilmente Delle misure Delle azioni Dei provvedimenti di legge Delle prese di posizione Diverse Perché dico questo Noi come regione Parliamo della regione Abruzzo Ma anche altre regioni Siamo qui in Abruzzo Ci siamo trovati di fondo Ecco Se questa crisi Ha fatto qualche cosa Ha fatto anche Emergere Delle necessità Importanti E queste necessità Importanti Si stanno tramutando In procedimenti Dove Lo stesso territorio Non sempre è pronto Ad assorbire Certamente Il tempo ci vuole Per troppo tempo Il nostro territorio È stato abituato Ad una politica Forse del garantismo Adesso bisogna Guardare sempre di più Alla politica Delle opportunità E delle occasioni In questo quadro Brevemente Altrimenti ci vorrebbero Più di un convegno Ma Siamo molti addetti ai lavori Si racchiudono Quei provvedimenti di legge Che vanno Sotto il nome Della riforma Dei consorsi industriali Che vanno Sotto la forma Sotto il procedimento Dei poli di innovazione Delle reti di imprese Di guardare avanti Ad un'Europa vera All'Europa dei popoli Non all'Europa delle finanze E la riforma importante Dei consorsi fidi Che è quella Che ha più Difficoltà Ad essere assorbita Certamente Un salto Di mentalità E anche Un passo culturale Diverso A cui Il territorio Deve Collaborare Con la regione Atteso che La regione Non ancora possiede Di risorse in doce Non possiamo E dobbiamo solo Ottimizzare Le risorse Che provengono Dalla comunità europea E dal governo Centrale Di certo Le esigenze Delle piccole Medi imprese Delle micro imprese Che sono una satura Della nostra regione Così come le esigenze Del mercato Sono diverse Le esigenze Delle imprese Sono Certamente Il fisco La burocrazia Il costo Il costo Del personale Il costo Dell'energia La finanza Le banche Il rapporto Con le banche I problemi Del territorio Portano in nome Di una Maggiore attenzione All'innovazione Alla ricerca E ha nuove forme Aggregative Di cui Il territorio Ha bisogno Beh Se ci soffermiamo Soltanto brevemente Solo 30 secondi In più Rubbo Ma qualche messaggio Lo devo dare Come Regione Il sistema Bancario Della nostra Regione Ecco Io sono Per una sola Cassa di risparmio Ad esempio Sono per una sola Cassa di risparmio Il primo Che ci ha approvato E' stato Spataro Non ci è riuscito Si è fermato Immaginate voi Se è possibile Arrivare A questa soluzione Quando le nostre Casse di risparmio Chi mi conosce Sa che io Poi parlo apertamente Così come Tante banche Sono terra di conquista Di altre banche Che vengono da fuori Noi vogliamo Le banche Come la BCC Che sono Interprete del territorio Banche E istituti Che Hanno sotto mano Più Un quaderno a righe E meno Il quaderno a quadretti Ossia Si ha più attenzione Ai progetti All'esigenza Del territorio E forse Meno attenzione Ai bilanci Ai numeri Perché I nostri venditori I nostri artigiani Chiedono sempre più Finanziamenti Per tirare avanti Per tirare a campare Per pagare Le bollette della luce Per pagare Gli stipendi E sempre meno Per fare investimenti Ecco importante Anche il ruolo Dei consorsi fili Ecco perché Io mi sto Battendo Fortemente Per arrivare Ad una Concentrazione Dei consorsi fili Ecco perché Ci sono due bandi Per i consorsi fili Uno di 18 milioni e mezzo Con i fondi FERS Uno di 14 Gian Giulio sa benissimo Con i fondi FASS Altri verranno E i fondi comunitari 14-20 Vanno in questa direzione È innegabile La nuova realtà Certamente Il professor De Cecco Il professore Il rettore Saranno meglio Meglio di me Argomentare Ma io Noi Come interprete Del territorio Non possiamo far finta di nulla Non possiamo proseguire In quella politica Del garantismo Dove si andava Si premeva il bottone E si aprivano le porte Il bottone non c'è più Le porte non si aprono più E bisogna adeguare E scendere E la politica Non può più sostituirsi Al territorio Facendo autocritica Personale Ognuno nel proprio Schieramento È l'epoca che Il territorio Deve dettare i ritmi E deve dettare i tempi I ritmi e i tempi Sono dettati Da banche come voi Bellissimo Quello slogan Direttore Dove è il territorio Che detta i ritmi Complimenti Grazie per quello che fate 110 anni Non li dimostra 110 anni Siete la banca Che più interpreta Le esigenze E le realtà territoriali Grazie per quello Che avete fatto E per quello Che farete nel futuro Grazie Grazie a Castiglione E adesso È la volta Della provincia Dalla regione Alla provincia Enrico Di Giuseppe Antonio Il presidente Della provincia di Chieti Beh è merito Anche di quel signore Che sta vicino a lei Che ogni mattina Corre e si tiene al nelato Perciò non dimostra 110 anni Ringrazio per l'invito Il presidente Della banca Il professor Pier Giorgio Di Giacomo Il direttore generale Partecipare Ai festeggiamenti Dei 110 anni Della più antica Banca di credito Cooperativo Abruzzese È motivo di orgoglio Le realtà solide Sono una chimera In questo periodo storico E l'incontro di oggi È il segnale chiaro Che l'intuizione Di Don Epimenio Nel 903 Non solo fu Meritevole Per le finalità Ovvero Il sostegno economico Delle famiglie E dei contadini Del territorio Ma che è Antesignana Di un modello Di accesso al credito Che ha fatto scuola E che la nostra provincia Ha saputo accogliere Da subito Beneficiandone In termini di ricchezza E di benessere Il nostro Accivesco Padre Bruno Ha poc'anzi evidenziato La grandezza Della visione Di Don Epimenio Emancipare La sua terra Economicamente E socialmente Secondo i dettami Della Rerum Novarum Per ridare Dignità umana Alle persone Principio valido Non solo In un'enciclica Della Chiesa Se solo pensiamo Che la nostra Carta costituzionale Ha alla sua base Il rispetto Della persona Sia come individuo Che come componente Della società Insomma Per mettere Al nostro mondo Al mondo contadino Con le sue piccole aziende Di apportare Innovazioni tecnologiche Di dar vita Ad una cultura Produttiva nuova Ha fatto la fortuna Di questa regione E ha segnato La nostra storia Economica E sociale Siamo diventati Imprenditori Artigiani Industriali Commercianti Abbiamo costruito Un sistema Grazie al sostegno Della finanza locale Intesa come Finanza sociale Che connota Spero per sempre Questa virtuosa Realtà bancaria Sangro Teatina Non si è lasciata Compromettere Dagli schemi Della finanza Globale Che dimenticano La gente Del territorio E dimenticano Come hanno ricordato Anche gli altri Che fare credito Presuppone un rapporto Di fiducia Vero e propria Cooperazione Banca clienti Che si costruisce Con il tempo E che con la conoscenza Reciproca Delle esigenze Delle dinamiche Del territorio Delle famiglie Cambiamenti In cui bisogna Adattarsi E non pretendere Il contrario Soprattutto Credo che Non bisogna Tradire La comunità Sia quella Obruzzese O molisana Con la quale Si è cresciuti Offrendo servizi E soluzioni Dispensando consigli E condividendone Progetti comuni Io Presidente Di questa provincia Me lo auguro Fortemente Perché Stiamo affrontando Difficoltà occupazionali Notevoli Direi anche Drammatiche Con imprese Che smantellano E localizzano La produzione Piccole e medie aziende Che chiudono I battenti Per mancanza Di liquidità Giovani Soprattutto E giovani Che non trovano Sostegno Per le loro Idee La crisi Sta mettendo A dura prova La sicurezza E la legalità E mina Il rapporto Di fiducia Con le istituzioni Spero Concludendo Nel ringraziare Tutte le autorità Presenti E tutti coloro Che lavorano In questa Blasonata Banca Della nostra Provincia Che preservino Questo rapporto Di fiducia Con il territorio E con la gente La volontà Di contribuire In modo fattivo Allo sviluppo Dell'economia locale Perché insieme Si possono fare Grandi cose E la vostra E la vostra Che anche La nostra Storia Lo testimonia Grazie E buon anniversario E permettetemi Di essere Anch'io Presidente Di questa Di nostra Provincia Orgoglioso Della vostra Banca Grazie Buon lavoro Grazie 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 Di Giuseppe Antonio Grazie Del suo Intervento E adesso Veniamo al Comune Di Atessa È la volta del Sindaco Nicola Cicchitti Eccolo qui E quindi come vedete Siamo in pieno Territorio Sono partiti Dalla Regione La provincia E adesso È il Comune Cicchitti Buongiorno a voi tutti Il mio Volevo Personale E di tutta L'amministrazione Comunale Che rappresento Saluto quindi Tutte le autorità Civili Militari E religiose Saluto Agli onorevoli Professori Che a breve Ci Relazioneranno E daranno Il proprio Contributo A questo Appuntamento E con Motivo Di soddisfazione E di orgoglio Saluto Il Presidente Di questa Banca Il Direttore Generale Il Consiglio Di Amministrazione E tutto il personale Della Banca Che in questi anni Hanno dimostrato Elementi Caratterizzanti Per la crescita Sul territorio Di questa Banca In pochi anni A dire il vero Siamo passati Dalla Originaria Banca Che aveva sede In Atessa Ad un territorio Molto più vasto Un territorio Molto più vasto Che Ha superato Appunto I confini Regionali E provinciali Oggi Abbiamo 16 Filiali Il mio augurio È Di accrescere Il numero Delle filiali Di lavorare Per il territorio Per lavorare Di lavorare Verso Quelle aziende Quelle aziende A misura Di territorio Che Penso E ritengo Siano quelle Più Radicate Più Coerenti E che possono Pianificare Dare risultati Sicuramente Maggiori A questo Nostro Territorio Soprattutto Per la tradizione Che ha A questo Nostro Territorio Don Epimenio Giannico 110 Anni fa Fu lungio Mirande Insieme Ad altri Tre sacerdoti E Annotabili Cittadini Di Atessa Ma anche Gente comune Di Atessa Quando in 14 Si riunirono Nella Casa Canonica In via della Vittoria Della parrocchia Di Santa Croce E fondarono Dietro Origine A questa Banca Oggi Ci troviamo Di fronte Come già Stato detto Faccio un Semplice Passaggio Di fronte Ad una Crisi Strutturale Una Crisi Difficile Che spero Venga superata Al più presto Ma Se ieri Don Epimenio E' stato Lungi Mirande Io Credo Che Questa Struttura Questa Banca Oggi Può Sfidare Questo Momento Così Difficile E sono Convinto Che Vingerà Questa Sfida Per i Prossimi Anni Avvenire Auguri E buon Lavoro Grazie Grazie al Sindaco Cicchiti E con L'intervento Del Sindaco Passiamo Un po' Alla Seconda Parte Diciamo Di Questa Mattinata Che E' Fatta Appunto Di Questo Dibattito A Più Voci Credito Cooperativo Economia Mondiale Dove Va Le Tendenze E Subito Dopo Ci sarà Invece La Premiazione Dei Dipendenti E Concluderemo Come ho detto Con il buffet Allora Di pranzo Adesso Cerchiamo Di avvicinarci Dai Problemi Dell'economia Locale Del Credito Cooperativo Inserendoli Valutandoli Alla Luce Dell'economia Globale Delle Tendenze Degli Avvenimenti Ora Siccome A me E' Capitato Anche Nella mia Piccola Esperienza Professionale Di stare Un lungo Periodo In America Nel 2007 E 2008 Io provavo A parlare Con Quelli Che stavano A Roma Dicendo Guardate Che qui C'è una Situazione Molto Difficile Molto Tesa Eccetera Che Come Accade Ha una Sere di Ripercussioni Nell'immediato Ma da Roma Mi rispondeva Ma sì Ma tanto Questa è una Cosa che Passa Va tutto Bene Insomma Sapete La storia I ristoranti Pieni I teatri Pure Quando c'erano I dibattiti Buoni Eccetera Eccetera Quindi qua Prima o poi Passa Eccetera Poi come abbiamo Visto Questa Dall'America La crisi finanziaria Moderna Si è trasferita Al resto del mondo E oggi succede Un altro fatto Che l'America In realtà Sta uscendo Da quella crisi E noi Ci siamo Con la testa E i piedi Ci siamo in mezzo Perché appunto Da noi i fenomeni Arrivano di rimbalze Come gettare un sasso Nello stagno L'onda ultima Arriva anche da noi Allora Siccome lì di nuovo Stanno succedendo Delle cose Cerchiamo Se non altro Di capirlo A livello di capire Non è detto Che poi queste Avranno immediatamente Delle ripercussioni Pratiche Oggi Nella nostra realtà Nella nostra Economia In America Sta per finire O almeno così Sembra Queste sono le tendenze La cura di cavallo Che è stata Data All'economia Americana Tasso zero Massicci acquisti Di titoli Del tesoro Da parte appunto Dalla banca centrale Americana Insomma Sta per finire Questa immissione Di grande liquidità Che la banca centrale americana D'accordo col governo americano Ha fatto Pensate che Ogni mese La banca americana Emette 85 miliardi Di dollari Per comprare i titoli Del tesoro americano Per sostenere Per sostenere l'economia Ora questa fase Pare che sta Per finire Sta per finire L'era Dei tassi Calanti Cosiddetto Pare che riprendano I tassi A salire Questo sta Determinando Già Adesso Una serie In previsione Di Disconvolgimenti Nei mercati mondiali Tutti si domandano Che succede Se Tornerà a costare Di più il danaro Se non avremo Tutta questa liquidità C'è chi addirittura Lo paragona A uno spostamento Tettonico Dell'economia mondiale Si sta Ci sono quelle cose Che annunciano i terremoti Grandi sconvolgimenti E così Non è così Chi invece dice Finalmente adesso L'economia La locomotiva Dell'economia mondiale Si rimette in moto Potremo andare avanti E riprenderemo Piano piano Tutti quanti Trainati Dall'America Che tra l'altro Negli ultimi anni Come sapete Ha ripreso A riassorbire La disoccupazione Ogni mese 150.000 200.000 Persone Tornano a lavorare Riprendono a lavorare La disoccupazione Diminuisce Invece da noi Drammaticamente È esattamente Il contrario Allora Approfittiamo Della presenza Di nostri Illustri ospiti Che vi ho presentato Prima Marcei Che succede Ma preoccupa O no Possiamo gioire E se Da me Lo sa bene E se non da te Da chi Va bene Comunque Grazie per l'invito Io ricordo Quando ho celebrato Insieme Al presidente E a tutti quelli Che celebravano Il secolo di vita Ti ricorderai Che c'era Luigi Spavento E questo volevo cominciare A dire Ricordando Il mio maestro E amico carissimo Nonché Illustre Discendente Di una famiglia Adessana Facciamoci un applauso Il ricordo Di Luigi Spaventa Grande economista E persona Che ha onorato La nostra terra Noi abbiamo fatto Un viaggio insieme A Buenos Aires Diciamo nel luglio Del 2011 Che è stato Molto Molto caro E costato A noi due Perché In cinque giorni Abbiamo visto Un sacco di cose Siamo tornati Poi lui Dopo un po' Si è ammalato E io pure Io ci sono ancora Per fortuna Ma Chissà per quanto Comunque Fino a quando Monsignor Brunaforti Potrebbe dire Fino a quando Vuole il Padre Eterno Io sarei d'accordo In mancanza di me Non potendo Se non altro contestarlo Il Padre Eterno E' inevitabile Ma il discorso Che è partito Con Giulio Porrelli E cioè Quando si parla Dell'economia mondiale Si parte dagli Stati Uniti E questo Probabilmente Per qualche altro anno È ancora vero Poi abbiamo Quelle ultime cifre Prodotte Sulla fetta Di prodotto Lordo mondiale Che si aggiudicano I paesi Dell'est Cioè i paesi orientali E lì Non lascia speranza Ne hanno veri Agli Stati Uniti Questi arrivano Già hanno più della metà Quindi Figuratevi Che succede Nei prossimi anni Comunque Il discorso Io Di questa crisi Che doveva durare poco tempo L'ho iniziato Nel 2008 Proprio in occasione Di un convegno Della BCC Di Roma E mi è pur rivolta La stessa domanda Come sempre Dato il mestiere Che faccio Io dissi Vedete che qui Al contrario Gli altri paesi Del mondo Siccome il nostro Settore finanziario Non è sovrasviluppato La crisi arriverà Partendo dall'economia Cioè Dalle esportazioni Dalla domanda interna E finalmente Arriveranno Le banche Quindi è il contrario Del modello Che invece Ha visto La crisi partire Dalla finanza Internazionale Perché noi Di finanza internazionale Ne abbiamo sempre Fatta poco Si dice Per uso di barzelletti Delle banche italiane Non si fa la finanza internazionale Perché nessuno Usa l'inglese Beh grazie a Dio In questa occasione Speriamo che Quindi quanti Tvising Non l'hanno ancora Afferrato Infatti L'impatto Sta arrivando È arrivato Con ritardo È arrivato In ritardo Voi Noi Perché io pure Sono di Lanciano Quindi faccio parte Del territorio Loro dicono Della Frentania Ma io direi Che la Valle del Sangro Sarebbe più significativa Come delimitazione Del posto Così ci prenderemmo pure Il Don Benedetto Croce E qualche altro Grande uomo Del passato Oltre ai Gli altri Ai D'Amico Ai John Fante E a tutto quello Che ha illustrato Questa valle Quindi dicevo Noi siamo collegati Direttamente A quel che accade All'economia mondiale E voi Basta che passate Qualche 10 km Da qua Vedete Se fumano o no Per modo di dire Le gminiere Della grande Sevello Oppure della Honda E tastate Immediatamente Il polso Dell'economia mondiale Non dovete fare Nient'altro Basta vedere Che stanno facendo Quelli Perché quelli Sono inseriti Nell'economia mondiale E insieme a loro Tutto l'indotto Che finalmente Dopo decenni Si è creato Anche qui E diciamo Dal punto di vista Sevello Un po' Tortocollo Perché stavano a Torino E la volevano rimanere Come indotto Però alla fine Si sono arresi Anche loro Bene Questa fabbrica Che ha avuto Un sviluppo Veramente Incredibile Perché io mi ricordo La previsione Era 1500 Dipendente Il massimo È stato 6000 Quindi Più chiaro di così Non potrebbe esserci altro Questo Ha sentito L'impatto Di questa crisi Che ormai Quinquennale È stato calcolato Che è più Che è più grave Di quella del 29 Noi non l'abbiamo sentita Proprio per quelle cose Che ci vogliono Togliere adesso E cioè Per il welfare state In tutte le sue manifestazioni Per l'economia Della solidarietà E del legame Con i territori Perciò Non è andato a finire Come nel 29 E nei paesi Nei quali Questo È meno sviluppato Questo Sistema E si è visto Che si è sofferto di più Ora questo È un cuscino Che tiene lontana La gente Quanto più è possibile Dal Impatto Pesante Della crisi Perché prendete Gli Stati Uniti Gli Stati Uniti Hanno una mobilità enorme La gente si sposta Se non trova posto A New York La trova in California Prende Baracca e Burattini E si sposta là Questo è diventato Meno possibile Anche perché Qui vanno a finire Nel fiume Sangro Che ormai È pressoché prosciugato E appunto Ci sta più Manco qui Comunque Il discorso è che Lì C'è questa Grandissima mobilità Anche noi ce l'abbiamo Il Dottor Di Santo Dimostra Io stesso E tanti altri Che quando c'è bisogno Di andarsene uno se ne va E lo abbiamo fatto In tutto il passato E in grande In grande numero Proprio quando è nata Questa banca Cioè negli anni cosiddetti Del miracolo Giolittiano Ora però Il fatto che Noi partecipiamo Così Integralmente Alla economia Mondiale Significa anche Che insieme Ai vantaggi Che ci sono stati Perché Abruzzo È l'unica Regione Che è uscita Da Essere considerato Paese Diciamo In via di sviluppo Dell'Europa E ha perduto Tutti i vantaggi Ovviamente Però se la cavava Abbastanza bene E però Questo è finito Nel 92 Dal 92 in poi Sono 20 anni Di guai Che hanno colpito Anche la nostra Regione Anche se La solidarietà Come dimostrato Anche dalla vostra Mutua Diciamo Che è stata ricordata E che Nella quale Mi complimento Con voi Adessani Perché noi Lì non ce l'abbiamo Nella cosiddetta Città di Lanciano Dicevo L'equivalente Non ce l'abbiamo Sarebbe il caso Che ce l'avessimo Ma non ce l'abbiamo Avranno bisogno Di nuovo Di molto Di più Di prima Ben ben Che la mutua Visto Che fine fa Che fine faranno Tutti i piccoli ospedali I piccoli ospedali Vanno a chiudere E noi siamo abituati Ad averli E hanno rappresentato Una realtà importante Oggi Ho sentito Con costernazione Quello che diceva Il vice prefetto Che il suo capo Era stato Giamato a Roma Per discutere Di che cosa Di mantenere L'ordine pubblico Quando esce Quello che succede Da parte del governo Perché quello Che il governo Si appresta a dire Non è molto Allegro Non farà fare salti di gioia E non farà fare salti di gioia E si sperano Gli altri salti Non siano eccessivi Perciò Il presidente Della Britannia Pensoso Di queste possibilità Ha chiamato I prefetti A raccolta E anche il sinodo Dai Vescovi Suppongo Che parlerà Anche di queste cose E quindi Anche lì Ci sono le due Le due Potenze Quella civile E quella religiosa Che si preparano Si preparano A che? Al peggio Perché il peggio Non è passato Perché al contrario Di quello Che dice Giulio Borrelli Che lo voglio Complementare Un po' E gli americani Sono un popolo Ottimista E non Non sono Adatti A sopportare I guai Il loro paese O riparte O si spaccia Perché sono tutti Di un altro posto Non c'è Una vera Coscienza nazionale Perché Poco tempo Oddio Sono da due Trecent'anni Quindi più Dell'Italia Però Hanno continuato Ad arrivare Da tutti i paesi E quindi Devono avere Buone notizie Quando cominciano A avere Cattive notizie Non si divertono Proprio per niente Molto peggio Di noi Quindi Al primo segno Barlume Di un miglioramento Dico bene Passate Li mettiamoci a posto Anche perché Dicendolo Si determina Una serie Di decisioni E queste decisioni Comportano Investimenti Per esempio E questa è La base Della ripresa Ora È vero Che si prendono Ogni mese Un numero Di nuovi occupati Negli Stati Uniti E quello è un segno Importantissimo Che qui purtroppo Manca In tutta l'Europa Ma Anche perché Noi Quando è il momento Non mandiamo La gente a casa Il tempo reale E lì si usa Lì te ne vai E poi ritorni E queste cose Non succedono Non causano Gravi dissesti sociali Perché tutti sanno Che è un intervallo Prima te ne vai E poi ritorni Qua se uno perde il posto Lo perde per sempre La mobilità Non si usa Non c'è mai stata Perché funzioniamo In un altro modo La Germania Lo fa in maniera Addirittura Più virtuosa Ma tutto il resto Europa È contraddistinto Da una popolazione Stabile Che vuole rimanere Dove è nata E si richiama A cose Ai Beligni Ai Frentani Due mila anni fa Gli americani A chi si richiamano Due mila anni fa Appunto Quindi devono Enfatizzare Che le cose Vanno bene Ma le cose Non vanno molto bene Se voi guardate La partecipazione La forza lavoro Cioè quanti americani Sono in employment Cioè totale Sulla popolazione Totale E questi sono Due milioni di meno Di quando è cominciata La crisi Ci sono ancora Molti meno Ci sono Fiore di premio Nobel Tra cui il marito Di una signora Che diventerà Al posto di Bernanke Il capo Della Federal Reserve Che è un premio Nobel Di mio collega Di economia di Berkeley E altri Stiglitz Krugman Che lo vanno praticando Da tutte le possibilità Che gli vengono offerte Di praticarlo Voi state dicendo Che tutto va bene Ma qui le cose Non vanno molto bene E poi c'è un altro segnale Cioè questa famosa Economia di carta Che abbiamo deprecato Prima di tutto Dicevano che andava bene Io appartenevo A quei pochi Che gli dicevano Ma chi l'ha detto Che va bene Qui le liberalizzazioni Cosiddette C'hanno nome e cognome Di chi la sanno Fa un piacere E non ho capito bene Perché mi devo compiacere Io che non c'entro Di queste cosiddette Liberalizzazioni Bene Adesso che se ne sono Accorti tutti E tutti Piangono Sul latte versato Bene L'economia di carta È ripartita È ripartita Come si dice adesso Alla grande Negli Stati Uniti E nel mercato Finanziario internazionale I prodotti derivati Ci sono tale Quale prima Ce ne sono Allo stesso numero Di prima C'è la stessa fragilità Di prima Quindi Siccome purtroppo Siamo anche in questa situazione Nella quale Un uomo O una donna Ancora possono fare Un'enorme Differenza Se sono al posto giusto Per esempio Il mio collega Professor Draghi Praticamente Il sistema finanziario europeo L'ha salvato da solo Un giorno Che si è svegliato E ha detto Qui L'euro L'euro Non morirà Perché ci penso io E state sicuri Che quello che ci metto Per pensarci Sarà sufficiente Questo è servito Non c'è stato nemmeno bisogno Di mettercene troppi Alla fine Ma non vorrei Che come è successo Con Greenspan Che dopo aver allargato 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 Per riprendersi Dalle numerose Numerosissime Crisi precedenti Alla grande crisi Attuale Poi ha pensato Io adesso me ne vado Lasciamo il segno Di uno Che era anche capace Di restringere Non solo di allargare E si è sfasciato Tutto Perché tutto Parte dal Cambiamento Nemmeno di politica Ma di odore Di politica Monetaria Della Petro Prima di qua Marce Tanto ci sarà Ancora Sì sì Ti preoccupare Allora Professor Cafaro Lei è uno storico Ha sentito Di crisi Ce ne sono state Tante altre In passato Questa qua Com'è Dove ci porta Come la vede E anche Diciamo Che si può fare Con i piccoli E modesti Mezzi E strumenti Che abbiamo a disposizione Perché abbiamo visto L'importanza Naturalmente Le banche di credito Cooperative Ma anche loro Ovviamente Devono fare i conti Con queste realtà Più vaste E più complesse Ma io permetterei Dicendo una cosa Che è stata detta Da molti Molte volte Che ogni crisi È diversa Dalle altre Tutte le volte Che ci si trova Dentro una crisi Si è convinti Che sia la crisi Più grande Di tutti i tempi E ogni volta Si fanno errori Che si ripetuti Nella storia Più volte Insomma Questa crisi È sicuramente Diversa Dalle altre È una crisi strutturale Ma era una crisi strutturale Anche quella Di fine ottocento Proprio nel momento Nel quale nascevano Le banche di credito cooperativo Le prime banche di credito cooperativo E le prime anche qui In Abruzzo Nascono intorno Al 94 95 Era una crisi strutturale Di grande portata Un rivolgimento Di tutti gli assetti Del commercio internazionale C'è un grande afflusso Di grani Dalle Americhe Che arrivano in Europa E stravoigono i mercati Cambiando totalmente Quelle che erano Le prospettive di crescita E gli obiettivi Che si erano posti I governanti A quell'epoca C'è la crisi del 29 Della quale si è parlato Aiosa In questi ultimi anni E abbiamo Questa crisi attuale Che possiamo confrontare Con quelle crisi Io penserei che questa crisi In realtà Ho sempre questo vizio Di guardare molto indietro Nel tempo Sia la sommatoria Di più crisi Adesso probabilmente Potremmo uscire Lo diceva Un momento fa Il professor De Cecco Potremmo uscire Magari per qualche anno Da questa situazione Di difficoltà Guidati da questa locomotiva Che è ancora tale O ancora pare esserlo Ma sicuramente Ci aspetterà O aspetterà I nostri figli Un'altra grave crisi Che avverrà Speriamo Il più tardi possibile E che potrà Solamente essere Allontanata Nel tempo Se oggi Si prenderanno In esame Delle prospettive Di crescita alternative C'è questa grande Crisi di lunghissimo periodo Questo grande Cambiamento strutturale Di lunghissimo periodo Che chiama in causa La nascita del capitalismo Le logiche Che stanno Dietro A questa crisi del capitalismo Che tira in mezzo La questione Della grande trasformazione Che noi abbiamo avuto In Europa Durante il periodo Delle grandi Trasformazioni La rivoluzione industriale E le altre grandi Rivoluzioni Un modello Che noi siamo riusciti A mettere in atto Non solamente Per motivi endogeni Interni Quindi Alle nostre dinamiche Di crescita Della tecnologia E dell'economia locale Ma anche per motivi esogeni Noi siamo cresciuti molto Abbiamo superato Quella che Generalmente È chiamata Trapola di Maltus Per la prima volta Insomma La popolazione È riuscita a crescere Senza che le risorse Carenti Frenassero Questa crescita Della popolazione Perché abbiamo attinto Anche da fuori L'area Che stava crescendo Molte risorse E la finanza In questo caso Le invenzioni Proprio della finanza Cioè Questa Altra faccia Dell'economia Che serve Come lubrificante Dell'economia Che è lo strumento Che al momento opportuno Permette Nel modo più rapido Possibile Per la tecnologia Del momento Di allocare Al meglio le risorse È stato uno strumento Importante Per questa Grande dinamica Di trasformazione Noi siamo cresciuti Il modello Inglese Si è poi Spostato Con naturalmente Sue peculiarità Nell'Europa continentale Nell'Europa periferica Poi Si è travalicato L'oceano Un nuovo occidente È nato E Appunto Alla fine dell'ottocento Questo nuovo occidente Ha messo in crisi Il vecchio occidente Adesso sta travalicando Ha travalicato Già anche L'altro oceano Lo stesso modello È stato Adottato Da questo Nuovissimo occidente Ad oriente Una volta dicevano Andiamo verso Occidente Per cercare l'oriente Ecco adesso si va Verso occidente E si trova l'oriente Nuovamente È un ritorno Della storia Veramente Veramente molto Interessante Sempre con le stesse Dinamiche Con le stesse Logiche Crescita Ma crescita Per motivi Endogeni Ma anche Grazie al risucchio Di risorse Dal resto Del mondo Che rimane Sempre più Residuale E che chiede Di entrare Sempre con maggior forza All'interno di queste Dinamiche Noi abbiamo sullo sfondo Questo grande scenario Che chiama in campo Coloro che cercano Energie alternative Che cercano Di avere uno sviluppo Sostenibile Che cercano Di evitare Che i trasferimenti Di risorse Che adesso Cominciano ad essere Dal nostro ambiente All'esterno Sia deleterio Per la crescita Complessiva Per motivi antropici Abbiamo bisogno Prima o poi Di trovare soluzioni Un po' diverse E all'interno Di questo grande scenario Abbiamo queste Due altre crisi Di portata Cronologica Più modesta Fine Ottocento E oggi Questa grande espansione Degli Stati Uniti d'America Questa capacità Di essere locomotiva Che poi nel 29 Si è dimostrata Esteretale Quando nessuno Lo immaginava Trasferendo la crisi Anche nel resto Del mondo In Europa Con un sistema monetario Basato Sul dollaro Con oggi La prima Per la prima volta La messa in crisi Di questo lungo Novecento Che sta finendo forse oggi Iniziato prima Della fine dell'ottocento E sta finendo forse oggi E all'interno Di questa crisi Di lunghissimo periodo Abbiamo la crisi attuale Problemi dei derivati Tutti questi problemi Che oggi Ci attanagliano Certamente Questa crisi Si può superare Però poi Bisogna fare i conti Con l'altra crisi La leadership A livello mondiale Dell'economia Lo sviluppo globale Del pianeta Non con logiche Solamente Di rapina Da parte degli uni Nei confronti degli altri E in fondo Anche la crisi La tempesta Più grave Quella di reinventare Veramente qualcosa Di nuovo Su scala globale Cosa possono fare Le piccole casse Ma io devo dire Che le casse rurali Sono nate Proprio per rispondere Alla crisi Le prime nascono Alla fine dell'Ottocento Proprio nel momento Di quella grande Crisi agraria Che cambia Lo scenario E le prospettive Per la crescita Del nostro paese E anche di altri paesi europei Nessuno immaginava Di uscire dall'agricoltura Per far crescere il paese Lì si innesta Un meccanismo Di agricoltura virtuosa Ma anche di Connessione Industria Agricoltura Facendo una cosa Anche eretica Cioè pensare Di trasformare l'Italia In una potenza industriale Poteva essere Considerata una cosa Per folli In quel momento Pure si fece E poi Questa specificamente Questa banca Specificamente Nata nel 1903 Dà l'idea Di cosa Fosse Ne ha già accennato Un momento Proprio in un passaggio Il professore Di secco Cosa fosse L'Italia Di quell'inizio Ottocento Di un inizio novecento Quell'Italia Della belle epoche Noi la leggiamo Sui libri di storia Come momento Di grande Sviluppo dell'economia Il primo take off Dell'economia italiana Ma è un take off Di una parte sola Della nostra nazione Di quel triangolo Industriale Milano Torino Genova Tanta volta evocato Il resto dell'Italia Entra in questa logica Entra in questo gioco Ma non entra in questo gioco In maniera Immediata Entra in maniera Mediata E queste banche Sono uno strumento Di questo In altre parole Proprio tra il 1901 E il 1909 L'Abruzzo Per fare l'esempio Di questa terra L'Abruzzo Balza Al vertice Delle statistiche Del momento Per numero di emigrati Non più temporanei Ma per emigrati Definitivi Rispetto alla popolazione Era il Veneto D'avere questo triste primato Negli anni precedenti Quando nascevano Le casse rurali Nel Veneto Qui diventa l'Abruzzo Ecco perché Tra il 1902 E il 1905 Nonostante Il mondo cattolico In quegli anni Vivesse Una situazione Di cambiamento Molto grave Perché erano gli anni In cui moriva Leone decimo terzo In cui Gli succedeva Pio decimo In cui Vi erano forti contrasti Tra varie componenti Del mondo cattolico Anni Nei quali Finisce anche La prima esperienza Di quell'opera Dei congressi Che era lo strumento Che gestiva Organizzava Le casse rurali Nonostante questo Tra il 1902 E il 1905 Nascono Tante casse rurali Qui E sono tante Quella di Atessa E quella Più blasonata Che è rimasta Fino ad oggi Ma in quegli anni Ne nascono decine Qui in tutto L'Abruzzo A cosa servivano Queste casse rurali Servivano a far rivivere L'economia locale Ma servivano Anche a recuperare Quelle risorse Che rischiavano Di uscire Dal territorio Ed erano le risorse Che gli emigranti Con la loro Forza Con i loro sacrifici Con la loro mente Avevano E stavano guadagnando All'estero Queste risorse Dovevano ritornare Alla terra Alla terra Da cui erano partiti Questi uomini Sono risorse Che dall'America Tornano Attraverso queste casse Sul territorio Sono organizzate Gestite da banche Diocesane Locali Ce n'è una L'Aquila Una Termoli Vari Insomma Qui in zona Che raccogliono Queste risorse C'è una banca centrale Delle casse rurali Che aiuta In questa operazione E vengono Rifuse sul territorio E fanno rivivere Il territorio locale Il territorio locale Che nasce Grazie Anche a questo Apporto Molto importante Amico Allora Qui Che facciamo Dove andiamo Cioè In realtà Il problema Si Ci richiamiamo All'economia locale È un modo Utile Importante Può essere Indicato Anche Un modello Di gruppo territoriale Però Diciamo La realtà Che ci circonda È molto più grande Rischia anche Di sovastarci E l'Italia Come paese Rischia Di fare la figura Del vaso di coccio Tra i vasi di ferro Come impedire Che questo coccio Si rompa È facile Intervenire per me Dopo che sono stati Richiamati Dai colleghi La crisi di fine Ottocento Le caratteristiche Dei fine ottocento E lo farei Riportando un po' Questa crisi Di fine ottocento Nella Val di Sangro Nella nostra zona In cui nasce Anche La Sangro Teatina E proverei A leggere In quel superamento Di crisi Lo stesso Probabilmente strutturale Forse ancora di più Gli indirizzi Non ho la ricetta Naturalmente Per superare Per superare Questa crisi Ma la linea Diciamo L'indicazione Su una direzione È possibile Cos'era accaduto A fine ottocento Nella Val di Sangro Era accaduto Per i grani Che arrivavano Dalle Americhe Ma soprattutto Per un modello Di produzione Che era cambiato Il nostro sistema Quello basato Sulla pluriattività Per cui I contadini Riuscivano ad essere Un po' artigiani L'artigianato Era diffuso C'era una fitta rete Di frantoi Piuttosto che di lanerie C'era Un proto distretto Lo ricostruisce Ottimamente Costantino Felice Con il proto distretto Dell'Aventino Un proto distretto Laniero Che era in grado Lo era stato Fino a poco Prima dell'unità Era il secondo Proto distretto Laniero Del Regno E le due Sicilie Che era entrato Irrimediabilmente In crisi Era entrato in crisi Per le dimensioni Delle singole unità Produttive Perché il mercato Si era organizzato In altro modo Per tanti motivi Cosa accade Fra fine ottocento E inizi novecento Prima che L'età giulittiana In qualche modo Diffonda Dalla Valera Pescara Anche nella nostra zona Qualche effetto positivo Accadono una serie Di fatti isolati Provo a ricordarli brevemente Si costituisce La casa rurale Di cui oggi Festeggiamo I 110 anni Dieci anni prima Filippo De Cecco Aveva inventato L'essiccazione Meccanica Della pasta Questo aveva consentito Di iniziare L'esportazione Verso gli Stati Uniti Favorito naturalmente Dalla presenza Di una robusta Colonia Di conterranei Di co-regionali Dieci anni dopo Sarebbe partita La ferrovia Adriatico-Sangritana Una ferrovia Che tecnicamente Era l'avanguardia Ora proviamo Cito solo questi tre Dei tanti episodi Che potremmo immaginare Cosa significa Creare una cassa rurale Nel 1903 Significa trasformare Un monte frumentario In cassa rurale Può sembrare La stessa cosa In realtà È un cambio epocale Il monte frumentario Non è una banca Semplicemente Ci si limita A segnare La quantità Di sementi Che si dà E a richiederne Con le condizioni Patuite Al momento Del raccolto Una cassa rurale È una cosa Completamente diversa Significa gestione Del credito Significa valutazione Del credito Significa imprenditorialità Significa assunzione Di responsabilità Significa crescita Professionale La stessa cosa Adesso non voglio Entrare Diciamo Nell'epopea Ricordavo prima Filippo De Cecco Oggi è il terzo Produttore mondiale Di pasta Evidentemente Quella innovazione Tecnologica Non era un fatto Episodico Era una capacità Anche in quel caso Imprenditoriale Esportare pasta Negli Stati Uniti A fine dell'Ottocento Quando non avevamo La possibilità Di comunicare Con mail piuttosto Che con sistemi Finanziari evoluti Significava esportarla D'Orso d'Assino Fino alla stazione Di Palena E significava affrontare Una serie di complessità Organizzative Davvero impensabili La sangritana Cosa significa Attivare una Una linea ferroviaria Elettrica Significa Introdurre Una tecnologia Che oggi a noi Fa sorridere Perché siamo abituati Alle varie frecce Che sfrecciano Purtroppo Non più Sull'Adriatica Ma comunque sfrecciano Nei primi anni Del Novecento Inaugurare Una linea Ferroviaria Elettrificata Probabilmente Avrà avuto Lo stesso significato Di inaugurare Una centrale Di fissione nucleare O di fusione nucleare Nella tecnologia Più evoluta Possibile Oggi Perché è stato Possibile questo È stato possibile Questo Potremmo parlarne Per settimane Intere Probabilmente Perché quel tessuto Di piccolo Artigianato Quell'abitudine Che fino All'infedaumento Delle nostre città Ci aveva abituato Anche ad un autogoverno Anche ad una gestione In qualche modo Responsabile Perché ci aveva Abituato In qualche modo Ad affrontare I problemi Che quel momento Di crisi economica Forse ancora più grave Dell'attuale Presentavano E perché è importante La credito cooperativo In questo caso E qual è la linea Su cui dovremmo Probabilmente Probabilmente Muoverci La creazione Della cassa rurale Di cui oggi Festeggiamo I 110 anni Al di là Del vantaggio In termini Di funzionamento Del mercato Bancario Finanziario Dell'approvvigionamento Finanziario Delle piccole Iniziative Imprenditoriali Ha rappresentato Per questo territorio Una vera e propria Officina di formazione Diciamo Di un management Se volessimo utilizzare Un termine attuale E cioè Ha consentito Di portare In questo territorio Delle professionalità In grado Di immaginare Realtà di impresa In grado Di valutare Di finanziare Realtà di impresa In grado Di stimolare La formazione Di nuove imprese Al di là Del vantaggio In termini Puramente finanziari Di disponibilità Di risorse finanziarie Io credo Che quel miracolo Sia stato reso possibile Il miracolo Del superamento Della crisi Di fine ottocento E dell'avvio Della nostra regione Verso un'industrializzazione Che poi nel secondo Dopoguerra Ha conosciuto I suoi momenti migliori Credo che sia stato possibile Perché allora Si trovò la forza Di mettere da parte Modelli consolidati Di sviluppo Nessuno pensò Allora O comunque in pochi Pensarono Allora Di rilanciare Il polo laniero Di palena Di taranta Di let palena Ma ci si concentrò Verso nuove iniziative E cioè Si riuscì A mobilitare Le migliori risorse Non necessariamente Finanziarie O meglio Non solo finanziarie Ma le migliori risorse umane Sperimentando Con l'attivazione Della cassa rurale Mi fa piacere dire Lo dico con una brevissima parentesi Non era semplicissimo Fondare una banca Allora La cassa di risparmio Di Teramo Venti anni prima Aveva chiuso Aveva aperto Operato due anni Ed era stata chiusa Si discuteva Mi fa piacere dire Al presidente Castiglione Lo citava prima Già negli anni Settanta Dell'Ottocento Sulla opportunità Di una cassa di risparmio Regionale unica Chieti, L'Aquila e Teramo Si trovò la sede a Chieti L'Aquila e Teramo Decisero di non aderire più Per evidenti motivi Di campanile Ecco Come fu possibile allora? Fu possibile perché ci si Orientò Si riuscì ad immaginare Un'attività imprenditoriale Verso nuovi settori Noi forse dovremmo immaginare questo E cioè dovremmo provare A fare lo stesso sforzo Davvero di cambiamento epocale Lo sforzo che portava Dal pensare A un sistema di produzione Nel 1903 Dico solo questo 10 secondi Mi permetterà Un riferimento personale Nel 1903 Nasceva la mia nonna paterna La mia nonna paterna Le lenzuola Se le produceva lei Perché seminava il lino E riusciva poi a lavorarlo E a ottenere delle lenzuola Ecco Da quel sistema Nel giro di pochi decenni Si riuscì ad arrivare A un sistema Di industrializzazione avanzata Ci si riuscì Perché si diffuse Si rafforzò Quella capacità Di assunzione Di responsabilità Quella capacità Di autogoverno Quella capacità Anche di rischiare Se noi riuscissimo E questo è l'auspicio E l'augurio Che veramente rivolgo Al presidente Di Giacomo E a tutta la BCC Se noi riuscissimo A rafforzare Ancora una volta Queste capacità Imprenditoriali E manageriali E riuscissimo In qualche modo Anche ad individuare Naturalmente Non ho la risposta Pronta Individuare Quali sono i settori In cui Indirizzare Le migliori risorse Ma soprattutto Se riuscissimo A potenziare Quei meccanismi Di formazione Quei meccanismi Che possono In qualche modo Consentirci Di imparare A guidare Meglio la macchina Poi dove andare Lo vedremo In un secondo tempo Dobbiamo imparare A guidare E imparare a guidare In questo momento Non è facile E su questo Le BCC Svolgono un ruolo Non comparabile Con quello Delle grandi banche Perché svolgono Questo ruolo Di stimolo Riescono ad inoculare Nel tessuto sociale Prima ancora Che economico Quelle capacità Imprenditoriali Che difficilmente Una grande banca Può portare Nel territorio E l'aspicio Naturalmente Al Presidente Che si prosegue In questa attività Con coraggio Credo che sia Da investire Adesso sulla formazione Mi farebbe tanto piacere Viste le casse Disastrate Della mia Come delle altre università E chiedere finanziamenti Per l'università Non lo chiedo Presidente Però le dico Il Presidente È contento E ringrazia E quindi Andiamo Ecco Volevo lanciare Un appello Per i giovani Dicevo al Presidente Finanzi Presidente I giovani Del territorio Li faccia andare Per sei mesi All'estero Farà un servizio Ai giovani E un servizio Al territorio Bene Allora Adesso Veniamo ad Adzi Che diciamo E Però vorrei anche Approfittare di lui Insomma Perché Nell'ultima fase Abbiamo parlato molto Insomma Adesso Negli ultimi interventi Nelle ultime cose Dette del credito cooperativo Il Presidente D'Amico Diceva Sì Vi dare la macchina Ma il problema È che queste macchine Sono diventate sempre più complesse Complesse Non tanto E soltanto Da guidare Ma anche da fabbricare Le tecnologie Le nuove tecnologie E il know-how E cioè noi da questo punto di vista Siamo rimasti un po' indietro È vero che erano pionieri Con la Sangritana L'elettrificazione La De Cecco E tutto quanto Molto importante Avere consapevolezza Della propria storia Della propria missione E orgoglio per tutto questo Questa mattina È stato rappresentato Diffusamente È importante avere L'analisi Che i professori Ci hanno sviluppato Egregiamente Del passato Del presente E in qualche modo Delle prospettive Del futuro Ma questo Evidentemente Non è garanzia Di successo Per l'avvenire Credo che questa mattina Abbiamo avuto La rappresentazione Di come ci sia Rispetto a quella Tradizionale Un'altra economia Un'altra finanza Che svolgono Egregiamente Il loro ruolo Sui territori Tutti Del nostro paese Che possiamo Chiamare Impegnato Nel primato Della persona Nella promozione Del benessere Della comunità E nel servizio Faticoso A volte Concettualmente Abusato Ma molto spesso Da noi Concretamente Praticato Per il bene comune Nella storia Parto un momento Indietro Anch'io Prendo spunto Da lì Nella storia Del credito cooperativo Il professor Caffaro Non ha avuto Tempo Di ricordarlo La presenza Delle casse rurali E poi Delle BCC E' sempre stata Accompagnata Da profezie Di sventura E questo In qualche modo Ci può anche Confortare Considerati I tempi attuali Quello che alcuni Dicono di noi Oggi C'era chi diceva Alla fine Dell'ottocento Che le casse rurali Erano un assurdo Economico Che non sarebbe Stato possibile Concidiare La pratica Prosaica Del danaro Con la finalizzazione A obiettivi Di solidarietà Ma per fare Un salto In tempi Più recenti Nel 1993 All'entrata in vigore Del testo unico Bancario La fine Della foresta Pietrificata C'era chi diceva Che le casse rurali A prescindere Dal cambio Di denominazione Banca di credito cooperativo Viene dal testo unico Del 93 Non sarebbero Arrivate al 2000 Perché la concorrenza Le avrebbe spazzate via Dal 93 Ad oggi Abbiamo visto Che molti Marchi Blasonati Sono scomparsi Il doppio Le doppia C Del credito cooperativo Continua ad essere Egregiamente presente Addirittura Nei primi Cinque anni Del secolo Abbiamo Quasi raddoppiato Le quote di mercato Ma poi È stato già accennato In particolare Dal direttore Bettoni Della Banca d'Italia Probabilmente Abbiamo affrontato I primi anni di questa crisi In maniera persino Eccessivamente generosa Non sapevamo Nemmeno noi Evidentemente Quanto sarebbe durata Quella che non è una crisi È una recessione E di fatto Abbiamo dato Fondo Alle nostre risorse In esubero E in questo momento Nel 2012 Ne abbiamo avuto Chiara dimostrazione Di fatto Anche noi Ci siamo Un po' bloccati Ci conforta Quello che diceva Nicola Di Santo Questa mattina Ovvero Che probabilmente Tutta questa storia Che si è sviluppata Della quale siamo Consapevoli E orgogliosi Non ha proceduto Linearmente E inevitabilmente Ci sono state De fasi Di avanzamento Di stasi E di arretramento Gli posti Diranno In che fase Siamo attualmente Di certo I tempi Sono difficili Sono difficili Anche per noi Perché Ovviamente Quanto più Una banca Sostiene L'economia reale Tanto più Risente Delle difficoltà Dell'economia reale E le banche Che più di tutte Perché questo È scritto Nel loro statuto Perché è scritto Nella loro legge Perché è scritto Nel loro DNA Soprattutto Sostengono L'economia reale Sono le banche Di credito cooperativo E quindi Nella mia Visione Del credito cooperativo Italiano Questa sera Sarò in Sicilia Ieri ero in Lombardia E tanti altri Luoghi ancora In queste giornate Che sono di stagione Assembleare Delle federazioni Vedo che La situazione Viene affrontata A macchia di leopardo E dove I territori Maggiormente soffrono Le BCC Del territorio Inevitabilmente Se sono state Coerenti Maggiormente Soffrono E allora Io credo Che Una banca Di territorio In quest'epoca Come una banca Di credito cooperativo Si trovi stretta Tra due esigenze Da un lato La propria missione Che è quella Di sostenere Le famiglie E le imprese Anche E ancor più Nei tempi Di difficoltà Anche perché Magari le altre banche Si sono arretrate In questa fase Ma nello stesso tempo Il presidio Dei propri conti E del proprio patrimonio Perché evidentemente Non facendo così Si minerebbe La solidità Della banca E allora La recessione Ci induce A pensare Ai fondamentali E quali sono I fondamentali Io credo Di tutte le banche Quelle commerciali Tradizionali A prescindere Dalla dimensione Sicuramente Delle nostre Primo Tutelare E nei limiti Del possibile Remunerare I risparmi Di soci e clienti E gestirli bene Secondo Mantenere Se ce la si fa Incrementare I prestiti A soci e clienti Meglio Quelli che producono Che investono Ma soprattutto Quelli Che si confida Restituiranno I prestiti Che gli si fanno Perché se non è così Non si gestiscono bene Le risorse Di chi ce le ha portate Ma i margini Sono stretti Non c'è più niente Di scontato Proprio se si è stati Coerenti E allora Noi dobbiamo Sviluppare Un'attività In termini Di azione E di reazione Azione come Concentrando L'impegno Della singola Banca di credito Cooperativo Tutte le 400 Paranti sul territorio Nazionale Su quello che è Il proprio Core business Quindi La raccolta Del risparmio Ma quello Lo fanno Tutte le banche L'investimento Sul territorio E la relazione Col cliente Ma poi Potendo contare Su prodotti E servizi Che non possono Non essere sviluppati Secondo grandi Economie di scala Su cui quindi La singola BCC Sarebbe soccombente Di fronte All'ultimo sportello Della grande Della grande banca Presente sul proprio Territorio Grazie alle strutture Di categoria Quelle che abbiamo Messo insieme In questi anni E che costituiscono Le fabbriche Del credito Cooperativo Che mettono a disposizione Delle prime linee Cioè i 4500 Sportelli Delle BCC Prodotti e servizi Competitivi Almeno Quanto quelli Della concorrenza Così facendo E facendo al meglio Così Riusciremo a mantenere Il vantaggio Della relazione Che è più facilmente Praticato Stando piccoli Sul territorio Ma con le esigenze Delle economie Di scala Che da piccoli Sul territorio Non si riuscirebbe A praticare Ma perché ho detto Reazione E questo è un aspetto Ancora meno noto E ancor più Attualmente problematico Perché fare La banca In termini di piccola Dimensione È sempre più difficile Perché la reazione Alla crisi Da chi fa Le regole del gioco Che ormai non sta A Roma Ma sta a Bruxelles Londra Francoforte In tanti altri posti Lontani ancora È stata asimmetrica Perché gli obiettivi giusti Cioè rendere più sicuro E stabile Il sistema finanziario Rischiano di tradursi In misure sbagliate Che appesantiscono Sproporzionatamente Più le piccole banche Tanto più se cooperative Non certo i colossi multinazionali Del credito E quindi in una logica Che è stata quella E che è quella Di chiudere Forse innatamente Le stalle Quando gran parte Dei buoi sono scappati Si costringe tutti Ad adottare misure Secondo logiche Non proporzionali Che invece sarebbero Fondamentali Per ragioni di giustizia La dico Un po' enfaticamente Sarebbe Pretendere Le stesse misure Di sicurezza Da chi gestisce Un impianto Fotovoltaico E chi gestisce Una centrale nucleare Perché entrambi Producono energia Ma facendo così Si fa morire Il credito locale E su questo Occorre Una forte Consapevolezza E intervento Da parte Della politica Sperando che ci sia E che ritorni A fare politica E da parte Anche dei regolatori Nazionali Perché le banche Di territorio Di credito cooperativo In particolare Sono un valore Per il nostro paese Per l'economia italiana Che si fonda Sulla piccola impresa E questo non è un handicap È una peculiarità E non solo Peraltro dell'Italia Ma anche in altri Stati europei Sono fortemente presenti E allora noi Abbiamo E questa mattina Ne abbiamo avuto A dimostrazione Consapevolezza Che il nostro ruolo Ha certo Una grande ispirazione Storica Delle opportunità Delle prospettive Ma dei terribili rischi Perché il nostro modello Di fare banca Non è conosciuto E le norme Le regole Che vengono sviluppate E poi calano Sui territori Sono impostate Secondo logiche Esigenze E spesso Gestioni lobbystiche Che non conoscono O se conoscono Non hanno nessuna intenzione Di mantenere operativo Un credito Come quello Che noi pratichiamo Due parole sul futuro Prevedere il futuro È evidentemente Problematico E anche importante Questo lo facciamo dopo Il futuro Ma stiamo ancora al presente Un attimo Ci arriviamo Tanto c'è un secondo giro Non sapevo se ci fosse stato Un secondo giro Se siamo sintetici Riusciamo a dire Se siamo ancora più sintetici Abbiamo esposto Le posizioni iniziali Torniamo un attimo Anche perché abbiamo visto Partendo dai problemi Della finanza mondiale Internazionale Arriviamo a capire Anche quali sono I problemi del territorio Del credito Locale Lui ci ha detto Adesso Una cosa Mi pare molto importante Sì Noi Sosteniamo E finanziamo L'economia reale Ma è evidente Che se l'economia reale È in difficoltà Andiamo in difficoltà Pure noi Cioè Traduco Non è che possiamo Fare miracoli Soprattutto se poi ci sono Queste strettoie Burocratiche Queste incomprensioni centrali Ora mi scusi Se ho sintetizzato Un po' troppo Allora Torniamo al professor De Cecco Quindi È chiaro Che dobbiamo ripartire Dalla visione Internazionale Dalle locomotive O presunte locomotive Almeno fino a quando Saranno locomotive Anche perché È vero Tu dici Si sposta da altre parti L'equilibrio mondiale Ma abbiamo visto anche Che la Cina Ultimamente Anche comincia a dare Qualche segno di scriccoli Abbiamo visto Il Giappone Che adesso Ha il suo indice In borsa In Nikkei Sta sulle montagne russe Sale e scende Per effetti Anche di stormir Di front Che vengono Dagli Stati Uniti Allora Il problema È tenuto conto Questa complessità E questo intreccio Qual è Il futuro La direzione La speranza Il Dottorazzi Ha Veramente Dato Corpo A quello che avevo Cercato Di dire All'inizio Dicendo Che in Italia La crisi Sarebbe arrivata Dall'economia Reale Non da quella Quando la crisi Finanziaria Si spostava Adesso è arrivata Il fatto è che Il modello Delle BCC Si è affermato Nonostante La dichiarata Politica Nazionale Internazionale Economica Voi avete riempito Uno spazio Che come Fece l'Italia Quando I tedeschi Volevano Abbandonare I settori Leggeri E andare Su quelli pesanti Dell'industria Dicendo Qua ci vengono I brasiliani E altri Anche i ginesi E i giapponesi E nel frattempo Ci si mise L'Italia Del miracolo Della terza Italia A fare quello Che si sarebbe dovuto Far fare I brasiliani Adesso Se i brasiliani E i ginesi Sono arrivati Cioè Si sbaglia il timing Ora Uno di questi Modelli Nel modello Che si prevedeva Da parte Della finanza Sia internazionale Che delle autorità Centrali Nazionali E internazionali E Il posto per il BGG Non ci doveva essere Invece c'è stato Perché Perché quelli Sero messi a fare La banca a rete Prima del tempo Hanno abbandonato I territori L'hanno abbandonato Dicendo Ma che è sta cosa vecchia Noi adesso Facciamo un sistema a rete Per cui tu Stai alla test C'hai una cosa Di dieci persone Vuoi i soldi Bene E riempi questo modulo Poi lo mandi alla centrale E la centrale decide Se te li deve dare o no Sulla base Di profili Di rating Nel frattempo Voi li davate subito Parlando con il personaggio Che era abituato A parlare direttamente Con il direttore locale Gli dava molto fastidio Riempire questi moduli Non si capiva perché Quindi voi Siete andate A occupare Territori Che La gente credeva In alto logo Si sarebbero inariditi E invece è stato un momento Dopotutto L'Italia è andata malissimo Negli ultimi vent'anni Come va che voi Siete andati benissimo Perché chiaramente Avete riempito Uno spazio Che gli altri Hanno abbandonato Che i più grandi Decidono Qui si scava il petrolio Lo scavano dei personaggi Che nemmeno sappiamo Chi sono Perché Perché l'agif L'ha aperto E l'ha richiuso Trent'anni fa Diciamo A fare questi Quattro soldi Di petrolio Sono arrivati questi E ci hanno organizzato Attorno Una cosa Sulla quale Non mi esprimo Tanto mi sono espresso Già Moltissime altre volte Quindi anche in questo caso Ci sono Gli Sfondegli Diciamo Le distanze temporali Che permettono A gente Che sta veramente Sul territorio Di salire Ora c'è un'enorme differenza Nel momento Della formazione Della gran parte Di queste Vostre banche Giù all'inizio Il secolo Perché quello Fu il boom Giolittiano E le banche Si formano Quando i soldi Ci sono Perché l'economia Funziona Qui abbiamo avuto Che i soldi Ci sono Perché l'economia Non funziona Questa è la novità Il professor Draghi Ha dovuto E prima di lui Il professor Bernan Che hanno dovuto Inondare Di liquidità Internazionale Di liquidità I loro sistemi Perché se no Se ne crollava tutto E voi soffrirete Come soffriranno Tutte le piccole banche Perché gli indici Che si fanno Di capitalizzazione Vi penalizzano Perché sono fatti Per realtà Nelle quali I titoli Sono più importanti Dei prestiti E dei depositi E sui depositi La percentuale Di rischi Viene considerata Maggiore Ora Chi ci stessero A fare Le autorità italiane Quando questo È stato deciso Io me li Ma perché Perché loro Rappresentano Una realtà Che non è più Quella dei grandi gruppi I grandi gruppi Anche italiani Si dovevano salvare Si devono ancora salvare Che pensate Che le grandi banche Tedesche Iglesi Belga E c'è Francesi Siano salve Non sono affatto salve Come non sono quelle americane Sono salve Fino a quanto dure L'inondazione Della liquidità Allora giusto Chi ora si potrebbe arrestare Eh E ora si potrebbe arrestare Ma io non ci credo Purtroppo ci potrebbe essere Un tentativo Di arrestarle E questo peggiora la situazione Cioè che Bernanke Dice bene Adesso facciamo vedere Che io so fare pure La stretta E non sono L'allargatore E allora ci prova Come fece Crisp Nei risultati Di questa Tentativa di Crisp Li stiamo ancora guardando E voglio vedere Se questo fa piovere Sul bagnato Che cavolo succede Perché Veramente Come giustamente Ha detto il dottor Anzi Lì Da lì partono ancora Le cose E le cose partono da lì Il vantaggio allora competitivo Nel piccolo ambiente Esiste? Qual è? Come si può in qualche modo Sfruttare? Io penso che il vantaggio Sia quello di sempre Quello di superare Le simmetrie formative Cioè Le casse rurali Quando sono nate Erano L'unico strumento Che sul territorio Poteva mantenersi Quindi avere Una possibilità Di redditività Rispetto alle filiali Delle banche Che avevano bisogno Invece Di mettere Sul territorio Dei funzionari Che poi non capivano Il territorio Quindi è questo Il fatto Il vantaggio competitivo È quello Il secondo vantaggio competitivo È la comunità Che però va ricreata In un certo senso Queste banche Non per niente Nascono nelle parrocchie Parrocchia è una comunità Consolidata Che ha Una storia Secolare Ma molte volte E che quindi Permette a queste Comunicazioni Di passare velocemente Permette il controllo Di uno nei confronti Dell'altro Permette Di fare Operazioni virtuose In quella crisi Che prima o poi Insomma Ci darà il conto E non ho detto Una cosa importante Relativa alle Casse rurali Che adesso voglio Brevemente aggiungere Dietro questa logica Delle casse rurali Queste casse rurali Cattoliche C'è quel motto Che il Raiffeisen Aveva Osservato Aveva discusso Anche col vescovo Di Magonza Von Kettler All'inizio dell'Ottocento Raiffeisen come è noto È fondatore Delle prime Casse rurali Con questa logica Che noi vediamo Operativa Ancora oggi Nelle BCC Il motto Di quel vescovo Era questo Caritas In veritate È un termine Che adesso Noi Abbiamo Nell'orecchio Per l'incirca papale Cosa c'era lì dietro Tognolo Alla fine dell'Ottocento Lo dice molte volte In congresse Di casse rurali Internazionale E Proprio per mostrare La differenza Tra le casse rurali Cattoliche E le altre Perché ne hanno sorte Anche altre La logica è questa Quella della possibilità Dello scambio Asimmetrico Cioè La possibilità Che esista Nell'economia Soprattutto nei momenti Di difficoltà La persona O le persone O i gruppi Che sono disposti A dare Senza pretendere Di ricevere In modo simmetrico Quello che hanno dato Questo è Caritas Poi l'economia Ripartirà Tognolo lo dice più volte L'economia potrebbe ripartire Eravamo nel momento Della crisi Però attenzione Che dietro Questo meccanismo Per far ripartire L'economia Occorre recuperare Un valore Che è stato dimenticato Nell'economia Nell'economia industriale Che nel posto industriale Cioè Quella logica Per cui Il mercato Detta tutto Io ti do E devo avere qualcosa In cambio Quasi Un dare La possibilità Di dare Ad un altro Qualcosa Che magari serve Anche a me Ma che So che serve Di più all'altro Che è un paradosso Nell'ambito Dell'economia Nell'economia Con la Con la I maiuscola Ma che è una Componente Importantissima In una logica Cristiana In una logica Nella quale Si pensa Ad un'economia Diversa Ad un'economia Cerchiamo sempre Di abbinare Di intrecciare Il livello locale Con quello nazionale Con quello internazionale E in questo caso Oltre 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 Quello E anche Mondiale Allora C'è però anche la competizione Tra le monete Euro Dollar In questo momento Sembra tutto evidente Che l'euro Il nostro famoso euro O euretto È sopravvalutato Mentre il dollaro È depreciato Questo ovviamente Ha un vantaggio competitivo Ha un vantaggio all'America E svantaggio a noi Per quello che riguarda Le esportazioni Ora però Se anche È solamente accennato Non è auspicabile Come dice il professor De Cecco Non è nemmeno immaginabile Ma se alla fine L'America Restringe Questa massa di liquidità Che emette comunque Sul mercato Questi 85 miliardi Di dollari Al mese Solo a pronunciarlo Ci vuole Qualche settimana Questa cifra Se poi la scrivessimo Non basterebbe Occupare tutto il teatro Con gli zeri Che porta questa cifra Se anche La riducono La ridimensionano Questa cifra Avrà una serie Di conseguenze Probabilmente Porterà anche A un dollaro Più forte Perché porterà Anche Tanti capitali A essere investiti In America Cioè Le richiamo i capitali Forse questa è una Delle ragioni Che presagendo Questo scenario Sta mettendo In fibrillazione Alcune borse Internazionali Da quella di Singapore A quella dell'Australia E così via Allora Se succede questo Cioè Che il dollaro Si apprezza E diventa Ancora più competitivo Noi con il nostro euro Dove andiamo? Posso citare Un strassi Che credo sia cara Ai colleghi economisti Quando piove Piove per tutti Poi c'è chi ha l'ombrello E non si bagna E c'è chi non ha l'ombrello E invece si bagna Noi dobbiamo cercare Di avere l'ombrello Anche con Con questo Foderato d'acciaio D'acciaio Ma come possiamo Come possiamo costruircelo Un ombrello In grado Di ripararci Non ragioniamo Secondo me Mai a sofficienza Sulle opportunità Che anche in questo Momento di crisi Ci sono Dimentichiamo Troppo Indaffarati Diciamo Nel considerare Gli aspetti Finanziari Della crisi Dimentichiamo Che la rivoluzione Tecnologica Che consente I cinesi Di avviare Determinate Attività Che non sono più Quelle delle magliette Ma sono Di strumenti Ad altissima tecnologia Sono a disposizione Anche per noi Shanghai è il centro del mondo Ma anche a Tessa Su molte cose Può essere il centro del mondo Dimentichiamo Ci stiamo incamminando Stiamo vicini Siamo prossimi Posso fare un esempio Diciamo Che conosco molto meglio Sempre facendo riferimento Alla mia università Venti anni fa Per fare una ricerca bibliografica Nella mia università Bisognava andare Alla nazionale A Roma E forse trovare Riuscire a trovare qualcosa O alla sapienza O giù di lì Oggi invece Basta Grazie alla disponibilità Che abbiamo Sul proprio personal computer C'è la password Ci si collega Ci si collega Non solo con la biblioteca Della mia università Ma con le biblioteche Di tutte le università Del mondo E non bisogna andare Materialmente A prendere la rivista Per leggerla Perché tanto La rivista ormai È telematica Ecco Questa possibilità Di essere centro del mondo Che fa sì Che anche In una stanza Dell'università di Teramo Si possa consultare L'ultimo articolo Appena pubblicato Su una rivista internazionale Dobbiamo metterla a frutto Dicevo prima Lo abbiamo fatto cent'anni fa Facendo una rivoluzione epocale Dobbiamo iniziare ad immaginare Che rivoluzione epocale Può esserci oggi Se cent'anni fa Era epocale La rivoluzione Monte frumentario Rassa rurale Oggi dobbiamo provare Ad immaginare Nei limiti In cui è possibile Ovviamente Vista la normativa Vista la molto opportuna Vigilanza Di Banca d'Italia Visti i vincoli Che abbiamo Dobbiamo provare Ad immaginare Qualcosa di nuovo Io credo Che se riuscissimo A sfruttare Ad avere consapevolezza Di ciò che le nuove tecnologie Ci consentono di fare Non solo ovviamente Nella finanza È già stato detto Ottimamente Mi riferisco invece di più All'economia reale Mi riferisco alle possibilità Che potrebbero essere A disposizione Delle nostre aziende Mi riferisco al fatto Lo dico sempre Che negli ultimi 30 anni Non un solo prodotto nuovo È stato Non dico ideato in Italia Ma addirittura prodotto Telefonino DVD I televisori Questo è un Samsung È coreano Insistevo prima All'appello al Presidente E chiudo Sulla formazione Perché il televisore Samsung Perché in Corea Il 41% Dei giovani diplomati Si iscrive ad università In Italia Dice a noi Alla scienza della comunicazione È un disastro Ma me lo dice Dopo aver presieduto Per due anni La facoltà di scienza E la comunicazione Mi ha ucciso Però ecco Non voglio Diciamo Perorare La causa di scienza E la comunicazione Però mi fa piacere Sottolineare L'opportunità Di essere attrezzati Ad aprire l'ombrello E dicevo prima Saper guidare Poi dove andare Quali problemi affrontare È una questione Che affronteremo Ma iniziamo Soprattutto a renderci conto Che il Samsung Si produce in Corea Non perché in Corea C'è la miniera In cui si estraggono I televisori al plasma Ma perché in Corea Qualcuno ha detto Ai giovani ragazzi coreani Ai giovani imprenditori coreani Qualcuno gli ha detto Se volete in qualche modo Emanciparvi da una situazione Di sottosviluppo Dovete fare Come stanno facendo adesso Gli studenti universitari cinesi Frequentano le lezioni In media Per 10-12 ore al giorno E poi studiano a casa Io lo dico ai miei ragazzi E generalmente Ne ricevo Diciamo Non ho un apprezzamento Molto pieno Però ecco Dobbiamo riuscire A iniziare a dire questo Voleva dire una bernacchia Ma concluda così No 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 Per loro cortesia Direi di no Però insomma Diciamo che Credo che è un grande servizio Che potremo fare I nostri giovani Oltre a mandarli all'estero Per questo L'invitavo il Presidente Di Giacomo A specializzarsi Ad avere Ad ampliare la loro prospettiva E anche un'abitudine A percepire Che Diciamo Le cose cambiano Non perché ci sia Il genio isolato O perché ci sia Il pozzo petrolifero Da sfruttare Le cose cambiano Quando con un impegno Condiviso All'interno della comunità Con un'organizzazione Condivisa all'interno della comunità E veramente Con tanto impegno Probabilmente Si può mettere in moto Un meccanismo Anche di sviluppo Bene Quello che chiamavamo Il sistema paese Se funziona Non funziona Però Adesso facciamo Dire sul futuro L'avevamo interrotto lì Azzi Essere sintetico Perché voglio poi concludere Con una domanda finale Che richiederà 30 secondi di risposta Da ognuno di voi Però prima Azzi che conclude Questo giro Il futuro Il futuro Del credito cooperativo A mio giudizio È il futuro Delle piccole imprese italiane Perché Perché Per esempio Noi diamo Il 20% Del credito Alle piccole imprese italiane Quindi siamo Leader In quel settore Che è nevralgico Per l'economia Del nostro paese Il futuro dipende In parte Da altri E in parte Da noi Non dipende Da noi Per quanto riguarda L'andamento complessivo Dell'economia E abbiamo sentito Autorevolmente Più volte Da dove Derivino Le problematiche Della economia Del nostro paese Il nostro futuro Dipende Dalle normative E dalla complessità Delle normative In fondo Siamo le piccole imprese Bancarie E quindi Soffriamo I problemi Che sono sofferti Dalle piccole imprese In particolare Un eccesso Di burocrazia Dipende Dalla regolamentazione Alla quale Dobbiamo Sottostare Nella consapevolezza Dell'impegno Dei regolatori Sulla Vigilanza Per la sana E prudente gestione Delle banche Ma anche Nell'esigenza Che da parte Dei regolatori Siamo visti Non più singolarmente Ma come componenti Di un sistema Di un gruppo unitario Di imprese Che operano In rete Strutturata E sistemica E poi dipende Da noi Dipende da noi In termini Di efficientamento Fare banca Locale Cooperativa E solidaristica Non significa Essere esonerati Da esigenze Di imprenditorialità Ed efficienza Dipende E questo Dobbiamo svilupparlo Sia per quanto riguarda La singola banca Di credito cooperativo Sia per quanto riguarda Le strutture Cui ho fatto riferimento Prima Dipende Dalla nostra capacità E volontà Di mettere in discussione Il modello Non le finalità E l'ispirazione Ma il modello Il modello In parte è cambiato 20 anni fa In Italia operavano 700 banche Di credito cooperativo Oggi sono meno di 400 Con quote di mercato Raddoppiate Ma la storia Della Sangro Teatina È la storia esemplare Di una banca Di credito cooperativo Altre sono confluite In questa E questa è cresciuta Per questo E soprattutto di suo Ma il modello È cambiato Ma deve cambiare Anche il modello Delle nostre strutture Associative E poi Dobbiamo Lavorare Sulla formazione È stato già detto Poc'anzi Formazione Che per noi Noi complichiamo Sempre le cose Non è solo Specialistica Professionale E tecnica Ma anche identitaria Perché lavorare Nel credito cooperativo Come collaboratore Dipendente O come amministratore È un'altra cosa Rispetto a lavorare In una banca Tradizionale E questo Deve essere sviluppato Compreso Condiviso E sviluppato Con consapevolezza E coerenza Dobbiamo essere capaci Di coinvolgere i giovani Perché nelle nostre assemblee Delle nostre banche Di credito cooperativo Mobilitiamo 300-400 mila persone In questa stagione Dell'anno Sul territorio nazionale Che vanno alle assemblee Però i capelli bianchi Quando ci sono Sono troppi E pochi Sono i giovani Che partecipano Eppure Eppure questo dovrebbe essere Un modello vincente Perché è una proposta In termini di Democrazia economica Di coinvolgimento Delle persone Di primato della persona Di finanza accessibile Affidabile Autogestita Autodeterminata Trasparente Utile Questi messaggi Dobbiamo farli capire Ai giovani E noi che giovani Non siamo più Dobbiamo essere disponibili A fare passi indietro Per coinvolgerli E impegnarli Sempre maggiormente Allora io penso Che se riusciremo A proseguire E accelerare In questa simbiosi Tra banca e comunità Il futuro Non ci farà paura E i 110 anni Non dovremo dimostrarli Come ricordava Il vicepresidente Castiglione Ma essere Capaci Di rappresentarli Dichiararli Festeggiarli Orgogliosamente Grazie Gli facciamo adesso Un applauso Per quello che ha detto Però non abbiamo concluso Adesso la domanda finale Quella delle cento pistole Che richiede Trenta secondi di risposta Sapendo Che il governo Letta Vi ascolta Ma il grande fratello No Quindi potete parlare In assoluta libertà E franchezza Il governo Letta Molti dicono Che Sembra essere Tornati a Monti Cioè Che significa? Significa che in questo paese In Italia Che al governo Ci siano I tecnici O i professori O che ci siano I politici Le scelte economiche Si assomigliano Tasse 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 Tante tasse Tagli Pochi O quasi Niente Tante chiacchiere Governi del fare Che sono soprattutto Governi Del dire Più che del fare Allora Voi che mangiate Pane e economia Ogni giorno Pranzo e cera E colazione Che giudizio date Di questa realtà italiana? Trenta secondi Marcello Cominciate a dire Se dai buon esempio Anche lui Basta che Essere d'accordo Con quello Che hai appena finito Di dire tu Che l'hai messo benissimo Quindi non c'è bisogno Che aggiunga niente Beh ma se tu mi dai Il visto professorale Ha più autorevolezza Quello che dico Perché secondo te? Perché? Perché i problemi Sovrastano E ci sono dei giudici Non italiani Che ci giudicano Noi abbiamo perso Se mai l'abbiamo avuta La sovranità Nazionale E non ce l'abbiamo Da quando abbiamo perso La guerra Ma nessuno Se ne era accorto Adesso l'hanno capito tutti Non c'è più Si decide altrove Abbiamo questi guai E si cerca di fare Come si può Senza tagliare Perché non si taglia Perché non solo Non si può tagliare La politica La casta E eccetera Ma non si vuol tagliare Tutti gli ospedali Che dice che sono Ma con questo territorio Se uno sta male Che fa? Qui parli di corda In casa dell'impiccato Sarà argomento Della prossima settimana E' come perché Pure lanciare Fa tanto Però tra un po' C'è pure quello Perché loro credono Che l'America E l'Abruzzo Qua ci sono la stessa cosa Qua ci sono un po' Di montagne di mezzo Uno fa tutto il tempo Di morirsi Se viene portato Con un'ambulanza A pescare E questo è perciò Che la gente Anche perché il lavoro Lo creano localmente Eccetera E anche le protezioni Polite E' tutto un quacervo Ma certo Tagliare E' ben altra cosa Dal tassare Anche perché Ci sono tutti questi Che non pagano le tasse I quali Le dovrebbero pagare Alla fine Paghiamo Noi quattro qui Siamo in cinque Sì già Ebbene Tu paghi le tasse in Italia Io credo fossi ancora No no Le paghi in Italia Adesso Dai Vabbè Caffano E noi paghiamo Perché noi siamo Si cerca sotto il lampione Le chiavi Se uno le ha perdute A un chilometro di distanza Perché? Perché c'è la luce E allora Non le prendo Bravo Caffano Ma è difficile E non essere d'accordo Con queste cose Io ricordo Sono uno storico Ricordo però Che sempre Insomma La nostra storia Ha avuto Questi vincoli Perché non so Se siamo stati molto liberi Mai nella nostra storia Forse le antiche autonomie Dell'epoca precedente Ma tanti anni Tanti secoli fa Erano vere autonomie E in una situazione Come questa Dove peraltro Anche La politica Sembra essere diventato Un mestiere residuale Non più Il mestiere Per eccellenza Di chi vuole Veramente Fare il bene comune Un mestiere residuale Lasciato magari interessi Lasciato A piccoli A piccolo cabottaggio Con un personale Insomma Non posso dire Forte questa cosa Ma insomma Sugli occhi di tutti Forse non molto adeguato A I problemi che ci sovrastano E le cose sono proprio difficili Occorre intanto Riappropriarsi un po' Della politica E del gusto Di pensare al bene comune Al bene degli altri Come bene anche proprio Rilutando in senso positivo Quello spiccato senso Di individualismo Che noi abbiamo Tanti campanili Tante chiese Tante piazze Tante città Una volta era un vantaggio Questo Oggi può essere Un handicap E diventa un handicap Molto forte Se si Trasforma in interesse privato Del singolo E non più la visione Comune E poi Questo forse Andrà anche Sulla politica Da noi Fino al 95 Si poteva andare In pensione Con 14 anni 6 mesi E un giorno E riuscire ad andare In pensione Appunto A 40 anni Baby pensionati Oggi Non è più possibile Questo Però abbiamo Un sistema Previdenziale Che è ancora Molto ricco Con chi è entrato Prima nel sistema E per nulla Generoso C'è anche un sistema Dove addirittura Adesso i professori Universitari Da 70 Danno la possibilità Di arrivare A 72 Con grande Protesta Dei giovani Ricercatori Prima era 75 Addirittura più 2 Poi l'avano cambiato Poi avevano fatto la forma Anche questa Diciamo Un'osservazione Ottima Dimostra come a volte Il sistema non funzioni Perché tanto Il professore universitario Ha 71 anni O prende la pensione O viene pagato Dall'università Per il sistema Non cambia niente Semplicemente Se rimanesse a lavorare Sarebbe probabilmente Più utile Però dicevo questo Per dire Forse è opportuno Visto che i vincoli Sono esterni Che la sovranità È molto molto limitata Muoverci Dove possiamo incidere Cosa metterci Nella spesa pubblica In qualche modo Lo decidiamo ancora Un po' noi E forse Se riuscissimo A spostare Da una spesa pubblica Che ci dà Una previdenza E un'assistenza Da primo mondo Io ne sono contentissimo Sono orgogliosissimo Di questo Ma che ci sta spingendo Nel terzo mondo Come sistema economico Ecco Dovremmo cercare Credo Un riequilibrio Un po' di Un riequilibrio Anche generazionale E soprattutto Un riequilibrio Che a parità Di spesa pubblica Sono d'accordo I tagli Sono già stati tanti Ma parità di spesa pubblica Ci consenta Di renderla Un po' più produttiva E anche Un po' più giusta Ma la spesa L'unica cosa Che aumenta Insieme alle tasse Non è che nel frattempo È diminuita Ma purtroppo I ragazzi Oggi offriamo Una prospettiva Di precariato Un sistema sanitario Che sarà completamente Sfasciato Quando loro Ne avranno Maggiormente bisogno E nemmeno Una prospettiva Pensionistica Ora Non credo Che sia proprio giusto Creare queste sperequazioni E credo Che molto Anche Dei motivi Che rendono Ancora ingessato Il nostro sistema Produttivo Sia forse collegato Anche a questa sperequazione Allora Tra primo mondo E terzo mondo C'è un secondo mondo Questo non so Io penso Che Sia necessario Impegnarsi tutti E ovviamente Far sì Che anche Chi ha le responsabilità Della politica Ritrovi Rinnovati Stimoli Per alcune cose Fondamentali Per ricondurre Questo paese Ad essere un paese normale Dico Valorizzazione Del merito Che determina Anche una Maggiore mobilità sociale Trasparenza Rispetto Degli impegni E dei tempi La stessa puntualità Tra le persone È un segnale Che ognuno può dare Semplificazione Come si diceva prima Un impegno Per la Pratica Della legalità Un impegno Sulla Macchina Della giustizia Che è sfasciata E che disincentiva Ulteriormente Gli investitori Stranieri Credo che Tutto questo Può sia La nostra portata E forse Paradossalmente Il fatto che Siamo Consapevolmente Sull'orlo del burrone Dovrebbe dare a tutti Un senso Di particolare Impegno Alla coesione E a un lavoro Comune Su questi fronti Perché non possiamo Permetterci passi falsi Grazie Noi adesso ci fermiamo qua Se non altro Qualche elemento in più Di come evitare il burrone L'abbiamo discusso Abbiamo cercato Di valutarlo Noi ci fermiamo qua Ma non finisce la giornata Perché adesso c'è la premiazione Dei 19 dipendenti Che hanno Oltre 25 anni Di esperienze È un momento importante Anche perché poi sono loro Insieme a tanti altri Sono anche loro Che hanno fatto grande La banca Dopo la premiazione Avremo il buffet Noi sgomberiamo Sgomberiamo E lasciamo Lo spazio Ai protagonisti Della banca Grazie E ci vediamo Tra poco al buffet Della banca Grazie. 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 Grazie a voi. Allora può venire la collega Rosanna Tano. La collega Concetta Marcucci. La collega Franca Dinella. Il collega Mario Berardi. Il collega Mario Di Giacomo. Il collega Vittorio De Marco. La collega Nicoletta Palasca. Il collega Enrico Fidelibus. La collega Marisa Nozzi. Il collega Antonino Mastrangelo. Il collega Vincenzo Piccirilli. Il collega Domenico Ciartilli. Il collega Valerio Ricciuti. Il collega Ferdinando Ulisse. Il collega Romeo Coccia. Il collega Camillo Di Sario. Il collega Camillo Di Sario. Mancini. Chiude il gruppo. Il nostro direttore generale. Fabrizio Di Marco. Prima di passare la parola al Presidente. Intanto io la ringrazio Presidente. Ci onora la sua presenza. Ci tenevamo tantissimo. Saluto tutti. I saluti li ha già fatti il Presidente. Però mi premeva in questo momento della giornata. Ringraziare i miei collaboratori. Lei prima diceva che i collaboratori devono fare formazione. Soprattutto sicuramente quella tecnica professionale. Però i valori. E io voglio ringraziare in particolare loro. Perché mi aiutano ogni giorno. A trasferire alle giovani generazioni questi valori. E veramente le ringrazio. E io ho scritto questa pergamena. Però vorrei leggerla a loro. Congratulazioni per i tanti anni di fedeltà. E appartenenza alla BCC Sangroteatina. Grazie per il tuo impegno. Chiaramente riferito ad ognuno di loro. La tua professionalità e la tua competenza. Grazie per il tuo forte spirito di appartenenza. Grazie per il lavoro svolto. Grazie per averla amato. Grazie per aver contribuito alla crescita della nostra BCC. Grazie per i valori vissuti e testimoniati. Soprattutto questo. Grazie per la tua fedeltà all'Istituto. Nel mantenimento di un rapporto costante. Di vicinanza e attenzione per il territorio e la sua gente. Grazie per la tua partecipazione responsabile alla BCC. C'è poco da aggiungere. Abbiamo detto tutto. Io veramente devo ringraziare il Presidente Azzi. Questo è un regalo che ci hai fatto. è veramente memorabile. Grazie. Facciamo una foto di gruppo. Grazie a tutti. Facciamo una foto di gruppo con il Presidente. Devo dire per chiudere che questo appuntamento è stato un po' travagliato nella sua definizione. Io conosco ormai bene il vostro Presidente perché insieme al Presidente della Federazione è consigliere nazionale. Quindi periodicamente ci riuniamo nel Consiglio nazionale di Federcasse dove sono presenti i rappresentanti di tutte le federazioni locali. Da tempo stavamo cercando di programmare questo incontro e sono veramente onorato e lieto di aver potuto partecipare e aver dato un piccolissimo contributo a una festa che sarebbe stata comunque bellissima di suo. Complimenti a voi. Grazie. La banca di credito cooperativo Sangro Teatina compie 110 anni. Un importante traguardo raggiuntolo dando sempre i valori del territorio. Dal 1903 facciamo banca con braccia, cuore e minte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.